niente raga io non so parlare ci rinuncio va bene quindi ciao buonasera benvenuti ora parlerò proprio nella maniera più basilare possibile soggetto predicato complemento ma il predicato non lo vado nemmeno a coniugare userò sempre e solo l'infinito quindi buonasera cavolo quale sarebbe il predicato all'interno di questa frase perché buonasera non insomma ciao ma perché io stream ma perché io faccio i video se non sono in grado di parlare lo dico ogni singola live e puntualmente ne starto un'altra bello è stratopico signori buonasera benvenuti spero che siete tutti quanti bene spero che avete passato un buon weekend io personalmente l'ho trascorso a lavorare in parte e a preparare scatoloni in parte tear perché gli scatoloni perché per chi non lo sapesse siccome siamo due turbo pepegotti claudia e io abbiamo deciso non solo di diventare genitori ma anche di comprare casa nello stesso periodo in cui siamo diventati genitori due smart boys vero eh grandissimi e quindi niente siccome abbiamo comprato casa vorremmo anche andare a vivere nella casa che abbiamo acquistato o no certo che sì il problema qual è il problema è che traslocare con una creaturina minuscola in casa non è semplice e quindi siccome il trasloco avverrà tra un mesetto circa stiamo già cercando di portarci avanti facendo tutti quanti i pacchi gli unici che ancora non sono stati fatti eccezion fatta per le stoviglie ciò che ci serve per preparare da mangiare e i vestiti sono quelli del mio ufficio ovviamente la postazione rimarrà montata fino all'ultimo giorno praticamente perché potrei aver bisogno di lavorare un pochettino anche la sera prima di partire però tutto quello che vedete sullo sfondo non dico tanto il divanetto e le piante oddio le piante potrebbero sparire quello sì però il contenuto del mobiletto lì pian piano lo vedrete che scompare già dalla sezione in alto come vi ho fatto vedere l'altro giorno sono scomparsi i libri ora ne è riapparso un altro perché era in un altro scatolone ho detto no ma non ha senso metterlo di là quindi lo sposto tra le mie cose e niente raga pian piano diventerà sempre più vuota questa visuale perché nelle prossime settimane cercherò anche di fare un paio di volte almeno avanti e indietro tra questo appartamento e l'altro quindi quello nuovo quello in cui andremo a vivere tra un mesetto un mesetto e mezzo per portare lì più scatoloni possibile quindi sappiate che potrebbero balzare un paio di live qua e là proprio per questo motivo e a tal proposito vi dico un paio di cose punto primo questa settimana saremo in live da oggi lunedì fino a giovedì ok quindi faremo lunedì martedì mercoledì giovedì e in particolar modo giovedì andremo a fare un subday una serie di sfide 1v1 tirless contro i pepegotti premium cosa vuol dire questo vuol dire che se siete abbonati al canale e avete l'abbonamento di livello 2 quindi il livello premium quello che costa 5 euro come abbonamento siccome tra i vari perk c'è anche la possibilità di partecipare a eventi come i subday ed era da tanto tempo che un subday non lo facevo ho deciso di organizzarlo e lo faremo questo giovedì qui ora se siete pepegotti premium quindi se avete fatto l'abbonamento del livello premium potete trovare o nel tab community del canale youtube il link per il form da compilare in vista di giovedì oppure potete andare sulle stanze per soli abbonati premium all'interno del mio server discord dove ho postato lo stesso identico link ci siamo? ci siamo per il resto non ho molto altro da dirvi se non che iscrivetevi al canale e smasciate like maledetti infingardi sia voi che state guardando la live in diretta qui su tierless raptor sia voi che state guardando la replica su tierless live mi raccomando fate i bravi supportate il canale con un likes e un'iscrizione e se volete potete anche abbonarvi al canale per l'appunto ne stavamo parlando fino a due secondi fa abbiamo due livelli di abbonamento il primo quello base vi dà l'emoticon del canale il baggio abbonamento la possibilità di riguardare le live direttamente dal primo canale cioè tierless raptor senza dover aspettare due giorni e senza pubblicità e questo perché poi dopo due giorni vengono ricaricate sul secondo di canale ossia tierless live dove però ve le beccate uno in differita e due con le pubblicità e infine ultimo vantaggio c'era un altro vantaggio? mi son dimenticato ma certo ma l'accesso al server discord accesso al server discord che in realtà è pubblico ma ci sono delle stanze specifiche per gli abbonati e alcune ancora più specifiche per gli abbonati premium che oltre ad avere tutti i vantaggi degli abbonati base il cui costo è 3 euro come abbonamento non gli abbonati gli abbonati non hanno un valore è l'abbonamento che ha un valore oltre a tutti i perk dell'abbonamento base avete anche la possibilità di partecipare a dei subday un po' più strutturati e la possibilità di decidere alcuni content tramite sondaggio e a tal proposito già vi dico domani dovrebbe uscire suddetto sondaggio ok mi sembrava brutto far tutto oggi quindi ho detto aspetto un attimo lo butto fuori domani che sarà per decidere il prossimo tbt credo di aver detto tutto ciò che doveva essere detto quindi salve che intro magica siamo già a 6 minuti di live è incredibile come il tempo voli e io ho famissima perché ancora non ho cenato stasera quindi tra poco dovrei farlo perché ci sono qui o meglio c'è qui in questi giorni mia mamma che ci sta dando una mano sia con gli scatoloni sia con Sid e quindi quando si è in compagnia si tira sempre un po' per le lunghe e perciò abbiamo iniziato a far da mangiare un quarto d'ora fa quando io ho dovuto attaccare la live perciò mangerò tra poco ma prima che arrivi la pappa direi di passare immediata subito a FC24 per introdurre questa carriera che in realtà è già al sesto episodio quindi non bisogna introdurre la carriera in sé per sé ma è bene ricordare un paio di cose e questo perché? anzitutto fatemi girare la visuale sbagliata aha molto bene questa è quella giusta salve allora questa carriera la stiamo facendo con il Jagiellonia Bialystok pronuncia sbagliatissima di una squadra polacca che per l'appunto Milita gioca nel campionato polacco Tiar come mai hai scelto questa squadra? volevo farla in un campionato al di fuori dei top europei e soprattutto è la squadra in cui gioca Pululu in real life avevo detto a inizio anno che non avrei più acquistato Pululu e così è stato non l'ho acquistato ho semplicemente iniziato ad allenare la squadra in cui gioca per farla diventare una top squadra europea però dobbiamo fare un paio di cosucce o meglio dobbiamo attenerci a un paio di regole per quello che riguarda il mercato e le regole in questione sono punto primo posso soltanto comprare giocatori di nazionalità estratte randomicamente all'inizio di ogni sessione di mercato e qualsiasi acquisto io vada a fare mi costringerà a vendere la sua controparte titolare esempio decido di comprare un nuovo difensore centrale perfetto Czapcet che in questo caso è il difensore centrale dovrà essere per forza ceduto ho bisogno di un nuovo esterno destro Sacek deve essere venduto perché questa cosa? uno perché sono stufo di avere la squadra fatta e finita dopo tre stagioni con al massimo uno o due cambiamenti nelle tre quattro annate successive e due siccome siamo nel campionato polacco ha senso a livello di realismo tra molte virgolette ma è vero simiglianza che un giocatore che milita nel campionato polacco qualora dovesse ricevere un'offerta da l'Inghilterra la Germania l'Italia la Francia sia propenso ad accettarla tutto qui tutto qui nelle prime cinque live abbiamo giocato le prime tre stagioni e in queste prime tre stagioni la squadra è stata abbastanza altalenante e ora ve lo faccio vedere da qui allora nel primo anno siamo arrivati noni quindi a metà campionato a metà classifica con non so quanti punti però non tantissimi 14 per 3 fa 42 più 10 52 punti poi la seconda stagione è stata un disastro perché l'abbiamo giocata senza portiere per via della regola che mi ha costretto a vendere il portiere titolare ma nonostante questo siamo comunque arrivati sesti con 16 per 3 48 più 9 57 punti lieve miglioramento ma comunque non sufficiente per andare a giocare in Europa cosa che faremo al quarto anno perché nel terzo anno siamo arrivati terzi collezionando 64 punti ma comunque convincendo poco convincendo me poco abbiamo perso 11 partite non va bene servirebbe qualche pareggio in più e soprattutto qualche vittoria in più per ambire a un titolo in terra polacca ma per il momento mi limito a avanzare all'inizio della stagione 4 ora per quello che riguarda il calcio mercato dobbiamo fare un discorso un po' più ampio perché siccome arrivando terzi ci siamo guadagnati il diritto di partecipare ai playoff di accesso a la conference league io vorrei un attimino cercare di buildare una squadra in grado di fare anche decentemente nella competizione europea perciò ora ci arriviamo perché non so 1 quanti milioni avrò 2 quali giocatori vorranno essere ceduti e 3 quali nazionalità verranno estratte io non so nulla perciò intanto schippiamo dalla stagione 3 alla stagione 4 e poi facciamo le cose per step quindi step numero 1 andrei a estrarre anzi punto primo andrei a vedere quali giocatori hanno chiesto la cessione in base a quello decidiamo quanti giocatori andare ad acquistare e conseguentemente quante nazionalità estrarre estraiamo le nazionalità e poi decidiamo come muoverci sul mercato perché per finanziarlo io sarei quasi disposto a sacrificare il nostro top player potrebbe portarci più o meno una sessantina di milioni e una sessantina di milioni per una squadra di questo tipo sono oro colato oro colato allora intanto punto primo soldi 12 milioni ok ci si può lavorare contando anche qualche cessione e dopo aver analizzato questo vediamo quali giocatori hanno chiesto la cessione perché cazzo incredibilmente non si ritira l'imbu script chuck ha chiesto il prestito ma lo possiamo richiamare poi Nguiambà se ne andrà Yunusà se ne andrà e basta Naranjo lo possiamo richiamare bene quindi sono sono due e sono giusti centrocampisti centrali io direi che considerato il misuni quando ci mette a diventare cc ancora 102 settimane bacca boia allora siccome abbiamo un po' di spazio di manovra io direi io direi diamo un'occhiata ai titolari perché in quali parti del campo abbiamo bisogno di upgrade forse la difesa Kammerknecht è un ottimo giocatore per il campionato polacco ma può essere nettamente migliorato stesso discorso per Sacek e forse abbiamo bisogno di un di un nuovo centrocampista al posto di o il misuni o alassan direi più il misuni è quello che mi è piaciuto di meno dei due oppure zu con il misuni che passa a cdc ma se devo scegliere preferisco cedere il tunisino che ha 25 anni rispetto al giocatore di singapore che di anni ne ha 19 quindi contando che devo prendere due centrocampisti di riserva a prescindere e voglio voglio andare ad acquistare almeno due nuovi titolari cioè uno al posto di Kammerknecht e uno al posto di Sacek forse direi di estrarre 5 nazionalità perché questi acquisti li potrei fare sacrificando gli stess e quindi andando a prendere anche un COC nuovo perché l'Istes ha 21 anni e vale 58 milioni raga l'Istes ci dà 70 milioni il che unito ad un altro paio di cessioni che andremo a fare ossia abbiamo detto quella di Sacek che va all'intorno ai 3 e quella di Kammerknecht che va all'intorno ai 3 e mezzo insomma andremo ad avere un totale di 90 milioni circa e 90 milioni ci rifacciamo una squadra cioè con 90 milioni sono 4 acquisti seri o meglio 3 seri e 2 riserve che è esattamente quello di cui avrei bisogno più i rinnovi di contratto perché ha un sacco di gente in scadenza c'è Limbu c'è Vidovic c'è Sacek stesso che magari vado proprio a rinnovare prima di cedere 8500 perfetto insomma loro due rimangono nei Vidovic Polulu non si toccano se lo tengo l'anno prossimo potrebbe darmi una vettina di milioni in più ma magari è troppo tardi vediamo anzitutto quali nazionalità vengono fuori perché non non è detto che venga fuori qualcosa di buono purtroppo allora vediamo com'è messa qui stai tutto storto fra che succe sta tutto stortissimo fermi è che sto facendo un test tra l'altro vi ricordo che nel caso in cui dovesse uscirmi una nazione di cui non esistono giocatori su FC24 sarò costretto a cercarli tramite l'academy ok quindi tramite le giovanili bene eccoci qua nonostante la pubblicità delle linee solari di crema solare perché mio dio quanto caldo fa qua a Bologna andiamo a estrarre 5 paesi del mondo il primo dei quali sarà il Liechtenstein ok slot 1 del centrocampista assegnato a Liechtenstein poi secondo paese Lettonia porca merda secondo slot del centrocampista andata puttana oserei dire niente ragazzi sono cursato forse dall'Iraq qualcuno di buono c'è ma sono cursato altre due uno fermi forse il Mali ha salvato un po' la situazione però sappiate che in questo modo io non so se intendo rinunciare all'Istes vista la situazione non so se intendo rinunciare all'Istes e a quel punto potrei piuttosto cercare o un nuovo portiere o un nuovo difensore centrale per limitare i danni e davvero l'Istes lo tengo un anno in più allora mamma mia che pessima cosa che è successa punto primo all'ordine del giorno voglio una tua opinione sul Bayer Leverkusen campione di Germania e che vi devo dire come disse una volta un grande saggio puoi togliere Kane dal Tottenham ma non toglierai mai il Tottenham da Kane no cavolo da parte c'è Belonso ha fatto un lavorone quindi GG al Bayer Leverkusen una squadra che non perde una singola partita in tutta la stagione non può non vincere non può non meritarsi il titolo detto questo cerchiamo le varie nazionalità che abbiamo trovato vai vai con Liechtenstein c'è gente del Liechtenstein non ce n'è e quindi mi tocca andare dalle giovanili Lettonia della Lettonia c'è sicuramente qualcuno gioca nello Spezia se non sbaglio tra l'altro c'è parecchia gente Gabriele Macrecis Macrecis seguiamola un terzino non c'era un giocatore nello Spezia Macrecis guardate seguo Macrecis Tobers Tiruma e Zarins con questi due che magari possono essere spostati sull'out di destra quello della Spezia ah Krollis è lituano no semplicemente non c'è più scusatemi fatemi controllare Krollis Raymond's Krollins è in prestito al Viscov che è una squadra del campionato della Repubblica Ceca nella serie B della Repubblica Ceca ok poi Iraq io per l'Iraq sono abbastanza fiducioso che se l'avessi detto vent'anni fa il significato sarebbe stato completamente diverso ma in questo caso mi aspetto qualche buon giocatore Zidaniqbal dall'Utrecht già il fatto che giochi in Olanda è buono Madjed dall'Ammarby Madjed l'ho avuto l'anno scorso se non sbaglio giusto che mingiacob 10 milioncini costa quindi potrebbe essere un buon centrocampista ok bene no ma l'Iraq cavolata parte l'Iraq ha davvero qualche giocatore molto interessante proprio Irl quindi dall'Iraq forse ci peschiamo qualcosa poi la nazione per cui non ho speranze Dominica non penso ci sia un giocatore di Dominica e infatti non c'è anche qua dovrò passare dalle giovanili Youth Academy e infine dal Mali forse non tutti i mali vengono per nuocere uccidetevi allora e insomma Musagenepo che nome allora però ipoteticamente dovessi prendere dalla Lettonia il terzino destro e dall'Iraq l'ha la destra se da Liechtenstein e Danimar e Dominica vado a prendere i due centrocampisti di riserva che faranno da vice El Misuni e Baba Alassan potrebbe servirmi il che ruolo potrei migliorare? portiere? no il terzino destro vediamo se qualcuno è interessante Sakotra o Re tutti troppo vecchi via Ada riadattabile ovviamente difensori centrali magari qualcuno di buono esce fuori Siku Gnacate e Gnacate è buono se non sbaglio gioca al Braga terzini sinistri da riadattare Dauda Ghindo suona bene dalle giovanili potresti trovare un portiere eh ma dovrei dar via il mio titolare e non faccio un altro anno con l'imbu titolare perdonatevi grazie mamadudumbia dell'anversa se non sbaglio è un signor giocatore Khabib Keita mi dice qualcosa non so cosa ma qualcosa mi dice effettivamente un centrocampista al posto di El Misuni non mi farebbe schifo perché il Misuni mi ha fatto proprio cagare il cazzo Munira lì anche se Regen vieni da Vapati seguo lo stesso che be cerchiamo gli esterni per vedere se c'è qualcuno di buono c'è Musa Genepo C-O-C Camorì Dumbia beh piuttosto mi tengo listes nella speranza di beccare delle nazionalità migliori per gli anni prossimi attaccante no mi va bene Puluru e la sua riserva che attualmente non ricordo chi sia direi che guardate che si può fare secondo me se puntiamo il terzino destro lettone l'ala destra irachena il difensore centrale maliano e poi dal Liechtenstein e domenica prendiamo un giovane giovani della primavera ma secondo me alla fine ce la cabiamo cabiamo soprattutto perciò anche perché non saprei quale altro ruolo migliorare e se al posto il difensore centrale migliorasse il centrocampo preferisco rinunciare al Misuni piuttosto che al Chapchet Chapchet è rientrato nella squadra dell'anno nel campionato polacco quindi Claudio Kammerknecht per quanto mi pianga al cuore addios dobbiamo salutare il nostro terzino destro cingalese Idris il Misuni addio Guyambah e Yunus già ci stanno salutando e infine Michal Sacek Iqbal no Iqbal non era no quello è Hannibal pardon Hannibal Mejbrie che è tunisino Iqbal non è ah Zidane Iqbal eh lo sto già seguendo Iqbal però mi sa che andrò sulla fascia a meno che anche Iqbal stesso non possa essere spostato allora avanziamo e aspettiamo un po' di soldi e di resoconti per capire come muoverci in tutto questo magari fermi mandiamo già in giro lo staff della primavera quindi Talal Anwar intanto mi va Dominica fermi che vado a mandarlo effettivamente in Dominica perché altrimenti non si può fare allora Youth Academy manda gli scout in qualsiasi paese nazionalità di di Dominica bello lì perfetto sei mesi non mi interessa nulla mi serve semplicemente un centrocampista centrale vai Bob benissimo mentre gli altri due li mando in Liechtenstein entrambi Liechtenstein 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 ah beh si posso andare in Svizzera sei mesi anche qua centrocampista centrale ok Bob e mandiamo anche questo in Liechtenstein ok buono torneranno il 3 di gennaio con dei risoconti spero però di trovarne prima un altro di giovane altrimenti sono fottuto è randomico Andrea non credo ci sia magari il modo c'è ma è così nascosto che nemmeno lo conosco allora sul mercato chi ho sa c'è che il Misuni Kammerknecht è basta più 2 che ho già venduto sì di base avrò 24 milioni e devo essere bravo a gestirli bene Scripchak delega un anno che se no piange Claudione Kammerknecht dall'Ala Vest tratta peccato Kammerknecht mi piaceva tanto come giocatore sapete allora il modo in cui mando gli osservatori in qualsiasi paese è molto semplice e mi devo servire di cheat engine per poterlo fare ok 5 milioni e 2 per Kammerknecht avrei potuto osare chiedere un po' di più comunque sì è tutto quanto derivante da cheat engine perché è stupido che non si possa fare nel gioco base però con i cheat si può e la cosa mi rende felice sono solo per pc ok scripchak allora sacek intanto tratta col salisburgo comunque se di tatuaggio ne ho uno sulla coscia sinistra ed è da un po' che voglio farne un altro ma ancora non l'ho fatto perché tra bimbop e casa nuova volevo risparmiare un pochettino ok cazzo anche vidovic però sarebbe un botto di soldi il river vuole il misuni che è il terzo e ultimo sul mercato allora si e no nel senso che fc24 per ogni nazione ha una serie di cognomi e nomi preimpostati ok quindi della serie per l'italia ci sono mille nomi mille cognomi e tu ti trovi una qualsiasi combinazione di queste per altre nazionalità magari hai soltanto due nomi e un cognome tipo il butan aveva due aveva un cognome solo e due tre nomi e quindi i giocatori erano tutti uguali dipende da quello che fc24 ha diciamo gli sviluppatori di ei hanno inserito come pool di nomi da cui trarre i diciamo sì da cui trarre poi i nomi dei region o i pregen sì arrivo biste cozza e zucchine molto bene molto buono allora fatemi trattare il misuni all'uton che potrebbe voler tornare in inghilterra ok deciderà lui dove andare se arriverò all'uton town quelli che indosso non sono occhiali da vista sono gli occhiali per non farmi bruciare gli occhi davanti al pc non sono graduati ok intanto salutiamo claudione kammerknecht anche il buon sacek e basta per ora perché lì stesse così poco lucido perché il cazzone era via con la nazionale ungherese ecco perché ora amichevoli internazionali listes nemmeno c'è ma le gioco per sperare di fare due milioncini extra ho già perso addio milioncini è stato bello ok intanto se ne va anche idris e il misuni ah no è script ciò che va in prestito in che senso scuole aperte d'estate perché intanto simula contro l'anderlecht uno a uno ma il misuni ha davvero rifiutato sia l'utontown che è il river sto cazzone se lo fanno lo fanno palesemente solo per diciamo venire incontro a quei genitori che magari hanno zero supporto familiare e non hanno modo di lasciare i bambini a qualcuno durante l'estate e quindi dice ok piuttosto teniamo aperto sono attività extra un po' come lasciarli tipo all'estate ragazzi al greist ma allo stesso modo in cui io in passato da ragazzino ho fatto il corso estivo di inglese sicuro si fanno lezioni extra non ha senso ci sta però che offrono la possibilità alle famiglie di allora intanto butta tutto sull'energia applica tutti i giocatori così dopo un paio di giorni si riprendono ci sta anche nella possibilità dei genitori di appoggiarsi a un'istituzione come la scuola piuttosto che a gente random simula 2 a 2 col frosinone lo accettiamo ok il nostro campionato tra quanti giorni inizia chiedo per curiosità una settimana bene non credo di essere psicologicamente pronto fermati strategia squadra no non strategia squadra oddio forse dovrei prendere anche un nuovo un nuovo bro applica tutti questo madonna ma io ho esattamente 18 giocatori in questo momento in rosa ma il misoni ma si leva dal cazzo sto stronzo esatto elementari medi le ho fatte attaccate all'aldruso qualcuno lo accetterà prima o poi lo stronzo ok sono arrivati un po' di resoconti vediamo di iniziare a magari impostare il mercato magari no allora ma come centrocampista questo a bibkeita posso tranquillamente prenderlo ci sta 8 milioni in realtà a bibkeita è più che acquistabile il che mi lascerebbe poi con o majed o zidaniqbal nel caso in cui possa fare l'ala da mettere per l'appunto sulla destra qua anche questo Amin Yusef Amin eh no è troppo importante non lo cedo no mentre come terzino Makretschkis bene o male dovrebbe essere l'equivalente di Kammerknecht un po' di più ah se ho 18 giocatori non mi rilascio 20 è quello il motivo well that's fucking bullshit allora andiamo a prendere a bibkeita tanto i soldi per prenderlo il maliano ce li abbiamo allora abbiamo detto 7 milioni facciamo e mezzo fammi e 8 fammi e 7 6 e 70 1 più 125 euro no ho provato l'offerta ignorante 6 e 7 7 e 7 ok posto non chiedere se puoi chiedere chiedi e basta non me lo vendono perché è troppo importante per il club ah dovete capire che quella lì è soltanto una facciata non c'è mai nessuno di veramente troppo importante se arriva l'offerta giusta va bene accetto sì fortnite prima o poi lo rifarò in compagnia non so quando non so come non so dove ma lo rifarò sicuro ok abibkeita nuovo giocatore del gioghellonia ottimo acquisto dal clermont foot e macrecchis forse davvero è il nostro nuovo acquisto mia catena non l'avrei mai potuto prendere via questo via questo via questo via questo devo decidere ancora chi potrebbe essere no vabbè te prego interrompi caccia interrompi caccia tobers interrompi caccia aspettiamo ancora qualche giorno no ma macrecchis scontatta per acquistare non è in vendita sì che è in vendita pezzo di merda bibidi bobidi boo ve l'ho detto che sarebbe stato in vendita ciao vi va bene tipo 3 milioni e 7 che ha il suo valore di mercato per macrecchis 4 e 3 più il 15 tu sei stronzo in culo ok 4 e 3 va bene meno male quello che dovrei intascare dall'accessione di idris e il misuni sì sì non gli ho dato una pillolina gli ho puntato il ferro alla tempia ciao allenatore del ferenkvaros ci rivediamo grazie per l'istes ora dammi sebrail oddio christian non credo che esatto cioè allora il punto per cui non voglio quanto cazzo potrà prendere questo macrecchis boh do 5 mila più 80 mila figa bastardo 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 non posso dare più a te che ad abib ok dai comunque il motivo per cui non mi sento di darti una risposta è che non è un argomento di cui mi sento tranquillo a parlarne perché non saprei cosa dire semplicemente non avendo vissuto situazioni simili per mia fortuna e non sapendo neanche bene quale sia la tua situazione no ogni persona è diversa ogni situazione è diversa quindi parla con qualcuno di più adatto rispetto a me se non te la senti di parlarne con i tuoi genitori che siano amici vicino a te che sia psicologo della scuola se offre questo servizio credo che un pelato che stream giocando a fifa sia la persona meno adatta di tutte in questo momento per queste cose comunque in tutto questo tornando a parlare di fc24 abbiamo preso ma krechkis poteva andare peggio per quello che riguarda il nostro terzino poteva andare decisamente peggio habib keita porca puttana ho appena realizzato e vabbè uno dei centrocampisti che troviamo lo dobbiamo mettere come difensore centrale se no lo richiamiamo all'ultimo e via il nostro bro e con il nostro bro intendo dire il l'osservatore allora dentro makrechkis dentro keita tengo david in panca per il resto ci siamo com'è il tempo a bologna no è caldo ovunque in qualsiasi parte d'italia in questo momento si muore di caldo non è più o meno in qualsiasi esagerando però è caldo fine da 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 a a a a trapani la squadra può puntare al titolo certo puntiamo a vincere tutto anche la confidence non ce la farò ma io ci provo ho fiducia nei miei giocatori si comincia subito contro i campioni in carica dell'ecpoznan dobbiamo rinforzarci ma arriveranno i giocatori adesso ne mancano ne ne mancano tre però cazzo ho appena realizzato una cosa che sto cercando dal ok allora chiariamoci tra di noi proprio diciamoci le cose come stanno forse mi sono incasinato un po' perché prendendo Keita io in questo modo se poi prendo altri giocatori da Mali e Liechtenstein in realtà loro due sono centrocampisti di riserva entrambi no è giusto è giusto chiedo scusa chiedo scusa siamo coperti ovunque no 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 pensavo di star facendo una puttanata ho bisogno ancora di due centrocampisti sì perché ne ho soltanto due Keita alassano ok niente 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 pensavo di essere costretto ora a cedere tipo chapchat però fortuna vuole che due delle mie riserve abbiano chiesto la cessione quindi ora si ha incassato bene come non detto ora prima dell'anno contro il lek poznan fatemi mettere un attimino il programma di allenamento giusto per tutti quindi specifico per l'energia per la formazione titolare mentre per le riserve bop 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 e bop simula veloce contro il lek poznan e vinciamo 1 a 0 segna il capitano segna afimico bululu un giocatore immenso afimico un giocatore infinito sì il titolare al posto di toirov lo prendo sto aspettando di vedere mentre il mizuni va al rangers sto aspettando di vedere i resoconti dei giocatori iracheni fine maged leverton purca è arrivato un'offerta da 43 milioni per diukanovic ma victor non lo vendo devo decidere come muovermi perché se se lascio andare maged devo essere sicuro di avere un sostituto all'altezza ok quindi giusto per curiosità qualcuno di questi può fare l'esterno può fare l'ala perché è quello che voglio capire esempio alhamadi no jacob dall'arus potrebbe fare l'ala destra jacob lui si o l'esterno destro ma jed lo è già e quindi il problema non si pone zidaniqbal lui è quello che mi interessa di più può farlo alla grande anche mentre yousef amin anche vi devo dire quasi 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 io ma jed lo faccio andare all'everton prenderò uno tra iqbal e amin per spostarlo sulla fascia o jacob stesso jacob è quello più forte teoricamente no corso of toy e via si poi devo rinnovare i contratti di scadenza o prendere un nuovo allenatore no di roba da fare tranquilli allora poco un stettino 3 2 1 simula rapido doppietta diafimico puluno in 5 minuti per ribaltare poco un stettino bene eccole qua le reso contanze su tutti i giocatori nuovi allora majed è un 71 e non sa fare nient'altro quindi via cestiralo kevin jacob è proprio un centrocampista centrale cioè sulla fascia parte che via alhamadi tra i tre il più ala barra esterno di centrocampo è Amin buona accelerazione non velocissimo agilità equilibrio ce l'ha resistenza anche però anche Zidane Iqbal mi ispira chat voi con chi andreste amin può crescere ma Iqbal no ripensandoci ripensandoci so che è stupido Zidane Iqbal può fare anche il centrocampista in caso di necessità possiamo spostarlo in un'altra zona del campo per eventuali mercati futuri non è stupido per la versatilità di Zidane poi ripeto magari ho fatto la puttanata del secolo e a preferire Zidane Iqbal a Amin però e poi vuoi mettere possiamo creare l'out di destra Iqbal Iqbal hit clamorosa ruolo squadra cruciale bene giocherà davanti a Toirov 5 anni di contratto per lui che si sposta dal Lutrecht al Jagiellonia non prende niente di stipendio lo accetto bene Zidane Iqbal nuovo giocatore del Jagiellonia ora devo spostarlo ad ala però poi ripeto magari ho fatto la puttanata del secolo però lo scopriremo solo vivendo già guardate che fa un grande upgrade da ala diventa 74 allora Iqbal Iqbal piano di crescita esterno destro due settimane ala 4 direi esterno un po' più equilibrato va bene un vero due Iq come due Iqbal eh Skripchak torna da papà che mi servi allora adesso è il momento che più preferisco in tutto l'anno piani di crescita Alvarez va bene Piekutowski va bene Vidovic ma fa crescere tutti in equilibrata ma invertito Ibertsberger difensivo Skripchak difensore centrale Ciappet regista Makrek Cis invertito Iqbal Iqbal va bene così tu va bene diventa centrocampista difensivo Veranus David vai bene così Anus Keita abbiamo detto anche Iqbal tra due settimane sarà esterno l'aranjero perfetto e in questo modo ci siamo anche risparmiati dall'altro Listes perciò l'anno prossimo potremmo usarlo come pedina di scambio per migliorare nettamente la squadra eh Listes non male non male poi Udo Pululu va bene diventami mobile ok ora 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 numeri di maglia andiamo a guardare questa cosa qua perché anzitutto Skripchak va di bolla 72 vero Skrzipczak no non Valdemar Skripchak no 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 transfer mark Mateusz Mateusz ok Mateusz ha la 72 e quindi io quella maglia gli ridò poi Makrek 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 Kis Chebrail alla 25 ho i numeri di maglia più ignoranti che abbia mai visto non ce n'è uno normale qua dentro eh Habib Keita Habib Keita indossa la 6 finalmente un numero umano grazie e infine abbiamo detto Zidane Iqbal che indossa la maglia numero 14 è libera è libera perfetto ci siamo rinnoviamo i contratti a un po' di gente quindi Vidovic mi sta bene 11.5 bravo Pululu anche qua 12 bravissimo poi Naranjo poi Limbo devo rinnovarlo a mano Patenboop lo posso prendere se mi esce la nazionalità giusta a parte che non lo prenderei però idealmente lo potrei prendere se mi dovesse uscire la nazionalità corretta se no no hai mai incontrato una persona famosa dipende cosa intendi per famoso cioè a che livello perché a livello di youtube forse io toby fuori youtube mai incontrato nessuno ma poi che cazzo vuole cioè quale quale persona sana di menti dice ma si sai cosa voglio cillare un pomeriggio con uno youtuber aspetta che sento tearless raptor non accade così non accade così non accade così siamo al quarto anno di carriera e siamo anche al primo anno in cui possiamo giocare in europa che giorno di agosto è il 2 ok tra un paio di giorni arriva il primo resoconto da dominica e lichtenstein forse e dico forse potremmo ottenere i nostri primi centrocambisti di riserva schifo 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 e schifo bene lichtenstein parte 2 schifo 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 eh schifo 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 e fammi indovinare doppio schifo mamma mia trovo nessuno da dominica è un 57 17 anni conviene che lo porti su non sei mai un centrocampista centrale tu eh sei palesemente un attaccante adrian peccato ti tengo qui e ti uso come macchina da soldi per il prossimo anni e per il prossimo anni che italiano perfetto tier il Valencia vuole giù le mani comunque ah eccoli qua i preliminari di conference contro il bohemians squadra irlandese possiamo farcela allora intanto continuiamo a simulare il campionato visto che stiamo andando bene prima però dammi il tempo di sistemare non qua bensì qua la panchina allora Iqbal dentro Toirov qua Skripchak qua bene panchina sistemata non è la migliore delle panchine ma panchina sistemata purtroppo non ho un centrocampista di riserva cioè o Veranus David è l'unico però Veranus cioè che ho comprato allora ho preso Zidani Iqbal ho preso Habib Keita ma tra l'altro sbaglio Habib Keita era un nome vociferato in orbita Juventus perché era uno di quei nomi tenuti d'occhio da Giuntoli magari ricordo male poi abbiamo preso uno di cui non so pronunciare il nome dalla Lettonia e adesso stiamo cercando due centrocampisti di riserva uno dell'Ichtenstein e uno di Dominica quella era Habib di Arra ho sbagliato Habib vabbè di Arra Keita stessa cosa assolutamente uguale stesso cognome allora Simula contro il Cracovia Diucanovic Diucanovic c'è altri tre punti in saccoccia partiamo con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite bene e ora Stal Mielez e poi ce n'è un'altra di partita dopodiché si va a giocare la prima sconfitta contro lo Stal Mielez Pululu Diucanovic ma ne prendiamo tre peccato vabbè una sconfitta ogni tanto ci può stare poi abbiamo il nostro esordio europeo finalmente col Giacchellonia figa ma lo Stal Mielez che cazzo ci fa lì in quelle condizioni perché Granit Shaka dovrebbe andare a Longs Bop molto bene Zidane Iqbal ha già fatto un più due semplicemente spostando l'esterno di centrocampo e ora Varta Poznan contro cui giocherà qualche riserva tra parentesi quindi dentro Skripchak dentro Ibertsberger dentro l'aranjero dentro Toirov dentro Naranjo ma dentro anche Iqbal e poi basta sì 3 2 1 Bop mamma mia 3 a 0 Alassane il letto nell'aranjero bene quando inizio a giocare adesso preliminari di conference league dovrebbero essere più che abbordabili abbordabili ampiamente turbo mega giga abbordabili non c'è niente di sicuro piedi per terra anche se credo di essere già con un piede nei gironi dai detto ciò rimettiamo il volume del gioco ti raccomi mai non metti la musica perché ultimamente youtube non so perché ma mi segnala tutte le musiche che uso che sono copyright free tra parentesi come portette da copyright e io non voglio rischiare detto questo signori prima partita del giorno si gioca bohemians di dublino contro jagiellonia bialistock esordio europeo per noi si scende in campo con questa formazione rinforzata clamorosamente rinforzata nonostante l'addio di kammerknecht e sacek e el misuni e ci avanzano anche soldi venga col paccio ripeto l'istes può aspettare un altro anno due turni strano però perché siamo già ad agosto dubito che il secondo turno te lo facciano fare a settembre inoltrato vabbè signori benvenuti in quel di dublino esordio stagionale giocando per noi vediamo se questi nuovi acquisti renderanno più completa la formazione di mister tirlos ma krechkis ma krechkis alassan bravo baba pululu vede lo scatto in area di listes listes carica il mancino palla sul fondo partiamo forte ma non partiamo benissimo e guarda se mi metto a spiegare il baseball e tutte le regole ciaone cioè ci posso dedicare un'intera live può essere che Irl siano due turni ma qua siccome non ci sono abbastanza campionati te ne fanno fare solo uno a pelle buono parola per pululu gran scatto dell'angolano che la tiene torna indietro quindi da vidovic bartolomeo vidovic cross in mezzo esce talbot che poi rinvia palla alta la ricerca del proprio attaccante c'è ciapet e allora diukanovic eccolo qua vittor vidovic va via il numero 17 che è il 27 non so neanche leggere i numeri vidovic pululu col mancino ci arriva il portiere diukanovic anticipato e allora piscek un polacco contro i polacchi occo sul moirangtem toiba moirangtem nome impronunciabile ma liste singiocabile ancora lungherese si allarga davanti a sevechka ancora lui zu carica al mancino sporcato habib keita ancora zu alassan per makrechkis cross secondo palo a cercare diukanovic sbaglia l'intervento sul pallone e poi punizione per il tocco di mano di vidovic peccato baseball beh allora racconta che nelle giovanili a baseball giochi un po' ovunque principalmente ricevitore e prima base ma se serviva giocavo in terza in seconda inter base mai fatto poi giocavo in terza in seconda esterno lanciatore ho fatto anche alle giovanili fai un po' tutto poi crescendo vai a dividerti i ruoli ma ripeto un giorno mi piacerebbe perché ho intenzione di comprare diciamo l'FC 24 del baseball quest'anno visto che l'ultimo che ho preso era il 21 cristian listes con un destro morbido e delicato che si spegne all'incrocio gol all'esordio europeo per il numero 76 il giovane trequartista ungherese che trova una perla una perla di quelle clamorose si vociferava di una sua partenza ma è rimasto e si rende subito decisivo con un bel gol e siamo avanti in quel di dublino comunque stavo dicendo a me piacerebbe comprare quest'anno MLB the show 24 quindi quello di quest'anno il 24 non so se lo farò mai in live non so neanche quando lo comprerò magari è stata inoltrata quando c'è lo sconto però diciamo che potrebbe essere carino se volete provarlo tanto una singola live e lì vi posso spiegare un po' di robe vidovic habib keita che casino che ha fatto sid madò buono il palone in profondità cuculovic davvero si chiama cuculovic cuculovic fra io lo scopro soltanto adesso cuculovic devo assolutamente averlo in squadra quant'è di ovvero il cuculovic è un 66 ed è un terzino ah Bartolomeo cuculovic ah Bartolomeo ma guardate carriera magari se c'è ancora la modalità road to the show potrebbe essere carino farle in un paio di live ma nulla di più no in realtà non è cuculovic è tipo più cucuovic la L con la barretta viene tipo tagliata e non c'è pululu la spara a lato peccato perché bella azione e bel filtrante di listes zu per Alassan bravo baba pululu si allarga sulla destra ancora Fimico torna indietro Makrecchis che cross pessimo ma arriva comunque a Djukanovic Keita Vidovic stop e cross per Czapcet la traversa di Czapcet che cazzo ci faceva lì lo so soltanto lui listes ci prova ancora di testa para Talbot 1 a 0 dopo il primo tempo ma che cazzo ci faceva lì Czapcet per il cross 2k e EA regà non collaborano sarebbe come dire aspetta che che ne so Nike e Adidas fanno una scarpa assieme no non funziona così non funziona proprio per niente così se mai FIFA la FIFA potrebbe affidare a 2k la realizzazione di un gioco di calcio ma è il massimo che può succedere EA non c'entrerebbe niente tanto bravo l'Istes a prendere palle e partire contro Pieda ancora l'Istes l'Istes con Talbot sbaglia tutto l'Iste e straversa non ci credo angolo ma come fuori gioco l'ha ignorata la palla Piszczek in area Piszczek bravo Zou che la tocca col braccio ma fuori dall'area di rigore calcio di punizione per il Bohemian McManus sul pallone invece calcia Clark palla sopra la traversa Iker Alvarez allunga in calcio d'angolo molto bene Kukulovic vicino all'1-1 che Kukulovic per noi oh Zidane Iqbal finalmente tocca il pallone bravo Fra è un piacere averti coinvolto nella manovra Czapcet Makreczkis Babalassan ancora il ganese resista la carica Djukanovic per Vidovic cross il secondo palo tocco di mano di Vecca e allora punizione dalla posizione assai interessante potrebbe andare Vidovic col mancino ma è assai più facile che da quella posizione possa provarci proprio lui Zidane Iqbal appena arrivato dall'Utrecht destra giro per provare a sorprendere Talbot palla sopra la traversa invece no deviato in angolo Vidovic dalla banderina verso la testa di Babalassan ancora Talbot cambi oddio in realtà sono tutti cotti gli altri quindi lasciamole lì così Vidovic dalla banderina verso Djukanovic palla sul fondo anche se FIFA 25 da Salah 2K potrà comunque tenere licenze se le paga sì a parte che la maggior parte delle licenze che IEI ha non sono esclusive sono licenze cioè tipo il campionato irlandese per dire oddio forse il campionato irlandese è l'unica eccezione però la serie A non ha la licenza esclusiva con FC24 con EA quindi la serie A può essere inclusa in altri campionati magari non con il marchio di serie A ma come campionato sì le squadre anche tranne quelle che hanno l'esclusiva con EA il fatto che i competitor possono esistere e le licenze possono essere date in esclusiva oppure no se 2K dovesse mettersi a sviluppare un gioco di il palone TM tanto buono il palone di Listes per Djukanovic che la spara altissima perché sta volando il portatile si è spento vabbè non faccio domande sicuramente ecco nel caso in cui il gioco dovesse chiamarsi tipo FIFA 2K 25 FIFA 2K 26 a seconda dell'anno in cui andrà a uscire poi questo titolo sicuramente le competizioni FIFA avrebbero l'esclusiva con 2K tipo il mondiale sarebbe esclusiva 2K il mondiale per club esclusiva 2K tutte le altre competizioni ma povercele chiunque tipo se non sbaglio Konami ha l'esclusiva con l'equivalente dell'UEFA ma per l'Asia quindi la FC 2K potremmo andarsi a prendere qualche altra licenza in più chi lo sa si vedrà Djukanovic tanto buono pallone dentro per Pululu col mancino debolissimo facciamo i cambi fuori Kbal dentro Udo per questi ultimi minuti comunque ultimamente si parla tanto di molte molti competitor per FC24 o comunque per il gioco di EA ma lo si fa sempre per quello che riguarda Ultimate Team a me di Ultimate Team può fregare una Sega quindi se 2K dovesse uscirsene fuori con un gioco che però è basato solo su Ultimate sull'equivalente di Ultimate Team cioè il My Team come si chiama su NBA 2K ma io non lo aprirei neanche non lo comprerei neanche perché che cazzo me ne faccio niente se mi metti una bella modalità offline che sia carriera allenatore o giocatore merda compro subito ma poi per il resto i vari goals i vari goal come cacchio si chiamavano gli altri di cui si parlava non ricordo l'altro che non mi avesse li proverò ma non li giocherò perché io gioco offline ma Iqbal è stato inutile perché gioco principalmente sulla sinistra con la coppia Vidovic di Ucanovic che è molto più forte rispetto a Iqbal Makrechkis no? è un po' quella la ragione però siamo al 30 di agosto la prossima partita abbiamo proprio il 3 e sarà anche il giorno in cui giocheremo pardon arriveranno i resoconti dell'allenatore di buono controllo Zlask Vroklav dentro un po' di riserve ti prego Halp dentro Iqbal Iqbal dentro Skripchak dentro Toirov basta porto dietro David 3 a 1 doppietta di Dukanovic gol di pululu sta insegnando solo loro due in simulazione listes non pervenuto Iqbal ancora di meno ok bravo chopchat io il mercato l'ho finito e quindi schippo la giornata e concludendo questo mercato signori vi dico anche che l'anno prossimo avremo bisogno di acquistare un nuovo terzino pardon nuovo esterno sinistro per l'attacco perché Naranjo ha chiesto di essere deceduto in preside per questo motivo non vuole rinnovare il contratto quindi andrà a scadenza visto che manca poco grazie a José fottiti se la vi tanto possibile cambio di ruolo per Adrian Tanner puttana che upgrade devastante ha fatto più 9 è passato da 57 a 76 e sai che Adrian Tanner qua però quasi quasi lo promuoverei per darlo in prestito da gennaio in poi che poi l'anno prossimo nel caso lo si vende bene dove sei fra attaccante Adrian Tanner aggiunge lista prestiti così va via per 6 mesi torna che magari ha giocato tanto l'anno prossimo do via Udo per tenerlui e migliorarmi un altro ruolo con l'altro centrocampista centrale proveniente da il Liechtenstein che viene ceduto chi lo sa non è stupido forse vediamo intanto se è arrivato qualche giocatore però perché continuo a avere dubbi sul fatto di poter trovare un effettivo giocatore decente da Liechtenstein e da Dominica tra l'altro io ve lo dico se non ne trovo nemmeno uno oddio lui Stunner forse dai prendilo se non ne dovessi trovare nemmeno uno tra le due nazionalità vado a spinnare un'altra ruota per l'inverno un'altra nazione per l'inverno se no non usciamo più mamma mia insomma abbiamo un 57 e un 56 bene bene va questo è un C.O.C. Luis forse Vivian Powell forse ma guardate vabbè signori ritorno dei preliminari contro il Bohemian l'andata l'abbiamo vinta 1-0 grazie ad una gran rete di Christian Listes vediamo di consolidare il vantaggio accumulato in questo ritorno in quel di Bialistock il piano di crescita pagato funziona soltanto se hai un esterno signori bentornati stessa squadra di prima cambiano giusto le magliette ma io mi sento abbastanza tranquillo l'importante è gestirlo no il vantaggio la squadra per per farlo contro un team come il Bohemian ce l'abbiamo e possiamo anche giocare in ciabatte se vogliamo guardate comunque quello che vi stavo dicendo prima io sulla questione giochi di calcio la maggior parte di quelli in circolazione hanno come modello di riferimento ultimate team ma perché? perché è la modalità più giocata io sono un giocatore offline quindi l'idea di avere competitor che mi fanno solo la modalità ultimate team vedi i football vedi i goals vedi l'altro di cui non ricordo il nome adesso però aveva una sigla tipo mls ma non è mls cazzo gol del bohemian ha segnato piscek dopo nove minuti quindi cerchiamo di non fare cazzate per favore comunque si stavo dicendo che poiché io sono interessato all'offline di vedere tanti ufl bravi ufl di vedere l'ennesimo clone di ultimate team ma a me frega un cazzo se un eventuale fifa 2k25 2k26 con 2k che riceve le licenze fifa dalla fifa dovesse uscire con delle belle modalità offline ma io subito proprio shut up and take my money intanto l'istess riprende palla dentro l'area di rigore avversaria ancora l'istess si gira spara la porta cross in mezzo wechka spazza se invece non dovesse arrivare nulla di tutto ciò io credo vivamente che inizierò a imparare football manager makrechkis cross indietro da ikbal non la tocca nessuno di mano keita anticipato riparte da chapcet ecco keita palla tra i piedi del numero 6 che in profondità va a servire bartolomeo vidovic torna ancora da keita pululu si gira zu keita per vidovic cross in mezzo troppo sotto c'è talbot football manager guardate magari football manager mi ci metto anche d'estate a provarlo però fino a traslok ultimato non ci voglio neanche provare perdonatemi ma non ho la testa di mettermi lì a imparare un gioco così complicato che poi magari è complicato di primo acchito non penso però ikbal bel destro al volo che si spegne sul fondo diukanovi c'era in fuorigioco il montenegrino mi sa di sì peccato esatto è un po' macchinoso per chi ha le prime armi ma posso imparare cioè non si può imparare insomma listes in profondità da pululu bravo a fimico l'appoggio da victor diukanovic di ritorno da pululu a spazio a fimico baba alassane dal limite zu prende la mira e calcia mcdonnell con la deviazione grant riparte ora il bohemian clark opportunità di 3 contro 3 clark serve grant ce la fa zidani ikbal rinviene su di lui fine primo tempo fine primo tempo peccato sì esatto ma guardate che io un football manager lo andrei a fare ahia mi sono graffiato al naso lo andrei a fare con un sacco di mod di quelle che aggiungono tipo le facce anche finte dei giocatori con mille campionati caricati cioè roba che ci metti vent'anni a simulare anche un singolo giorno computer nuovo quello prima devi imparare le basi quindi magari sapete in maniera stupida per imparare le basi potrei fare una stagione col pari saint germain in francia un paio di stagioni lì che tanto hai un botto di soldi bene o male tutto è già coperto non hai grosse difficoltà per imparare è quasi più semplice secondo me imparare con una squadra grande che con una squadra piccola perché hai libertà di manovra un po' in tutto diukanovic per listes a cercare pululu la mette giù a fimico cerca la giocata non c'è tocco di mano di wechka e allora clark è partito clark con calma il numero 15 raga perdonatemi ora mi devo concentrare un attimo sul gameplay altrimenti vengo eliminato dalla conference dal bohemian che con tutto il rispetto no grazie grant mcmanus occio gli interventi in area di rigore occio gli interventi piscek piscek per un compagno di squadra ikbal mette fuori ma lo fa benissimo mcmanus in area mcmanus col destro i keralva adesso in due tempi ancora diukanovic inseguito da lilander gli va via il numero 17 diukanovic per listes dribbling tra tre giocatori non gli riesce allora il nuovo contropiede del bohemians con clark torna indietro zu a fare da schermo baba lassan diukanovic habib keita dentro per listes un po' in maniera in aspetta che cazzo hai fischiato imbecille si ma allora immaginatevi una carriera giramondo con un allenatore che parte senza skill e che si ritrova ad allenare nella serie B della malesia e che deve arrivare fino ai top campionati europei cazzo quanto sarebbe bella baba lassan talbot miracoloso gran parata sul centrocampista ganese allora calcio d'angolo settantunesimo minuto vidovic dalla bandierina palla in mezzo le spinge non c'è nessuno chapet palla che finisce da zu prova a calciare anche lui mcmanus si oppone un paio di volte ancora lo stesso mcmanus una parte grant a rallentarlo makrechkis ancora il lettone kukulovic kukulovic ancora clark per lilander okosun okosun ancora buon dribbling per piscek in area piscek piscek col mancino iker alvarez ci arriva ma perché sono così tanto in difficoltà fuori kukulovic è cotto dentro un aranjo altri cambi non li farei per ora eh lo so ma infatti mi ero guardato i primi episodi della serie di mezzo poi me li sono persi tutti gli altri per ovvie ragioni ma è una di quelle serie che voglio recuperare un po' come quella di di zealand per chi segue football manager o quella di crew che li guardo entrambi da un annetto e mezzo circa zealand forse un attimino di più crew da quando ho iniziato a fare la serie col torino quella ancora prima bravo alassan pululu aggancia il pallone e va via mcmanus afimico prova lo scatto kirk si oppone baba alassan la recupera pululu listes con calma christian listes cerca il passaggio in mezzo pululu pabalassan zu a spazio il centrocampista di singapore lo scatto per abib keita diukanovic vidovic ancora abib keita listes l'appoggio per afimico dove cazzo l'ha sparata pululu è il terzo gol che si mangia così è in questo doppio incontro pululu non è in forma in questo inizio stagione non è per niente in forma l'avrebbe potuta chiudere qua al novantesimo allora kirk la tocca di braccio chapcet naranjo appena entrato al posto di ikbal destro ribattuto mcmanus ultima opzione o forse ultima opportunità ultima opzione ultima azione e niente mi tocca andare ai supplementari contro contro il bohemian loro hanno fatto due tiri sei più di noi è vero hanno avuto quel momento quello stretch di partita dove erano incontenibili ok va bene cerchiamo di segnalare i supplementari perché non vorrei dovermela giocare ai rigori mi cago in mano giusto all'idea kirk per grant in verticale mcrek ci su di lui bravissimo lettone babalassan di testa toiba wechka in verticale da piscek bravo il nostro terzino della lettonia listes serve victor diukanovic sulla corsa entrerà la montenegrina tu per tu con talbot prova a piazzarla ci arriva talbot poi listes anticipato da wechka chap chat di testa anticipa tutti mcmanus cosa si è mangiato victor diukanovic chop chat ancora keita listes gran palla col contagiri ancora per diukanovic di nuovo in ara fatto brutto con talbot la piazza ancora e ancora una volta sbaglia pululu perde palla fimico fine primo tempo arbitro 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 è finito arbitro 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 siamo al quarto minuto di uno di recupero sono fuori dalla conference cioè cazzo che tristezza uscire così però avessi avuto i preliminari di europa league almeno avrei potuto dire vabbè dai giochiamo la conference no manco quelli sono i preliminari di conference adesso per mano del bohemian no manco quelli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' così che funziona. Non sto togliendo nulla a nessuno. Sto dando qualcosa in più a chi mi supporta direttamente. Sto facendo nulla di particolarmente allucinante. E vabbè, raga, è andata male. Che vi devo dire? A questo punto si gioca per la doppietta domestica. Però se pareggiamo contro il Ciorizzov, per favore. Ah, se parli del fatto che una volta terminate rimangono visibili soltanto per gli abbonati è perché sul secondo canale le ricarico pubbliche. Quello sì. Su quello c'hai ragione. No, 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 non è. Ma mica sono arrabbiato. Era giusto per spiegarti come stanno le cose. Mi spiace che la gente mi dica No, non mi piace questa cosa qua. Eh, capito. Vabbè, comunque che palle. Prendere gol al quarto minuto di recupero. Spero vada al bel grano. Tanner. Prendere gol al quarto minuto di recupero su uno concesso. Con il loro portiere che ha fatto qualche parata. Io che ho fatto una serie di cazzate. Le avrei dovuta chiudere molto prima quella partita. Niente, ormai è andata. Niente Europa per quest'anno. Ma ci possiamo comunque concentrare. Su Il campionato Polacco. Quel palo a porta vuota all'andata. Come si dice? C'è Pululu che si è mangiato un paio di gol già fatti praticamente. È un po' un peccato. Insomma, sarebbe potuto andare nettamente meglio. Bravo Zidane Iqbal. Subito con l'opportunità. Bel mancino. Palla fuori però. Bravo l'Irakeno. Ci ha messo la mano? Non ci ha messo la mano ma di poco Gille. Regà, per quelli che si sono sintonizzati adesso, salve, buon pomeriggio. Siamo fuori dalla conference. Ah, cazzo. Siamo stati cacciati fuori brutalmente dal Bohemians. Partita della minchia comunque. Ma ho fatto un sacco di errori io, eh. me ne rendo conto. Bel gol di Piszczek all'inizio. Gol un po' della minchia di Clark alla fine, ripeto, però. Che ci vuole da fare? Nulla. Quando uno è coglione se lo merita. Giusto, giusto. Djukanovic. Keita. Col mancino Gille. In due tempi risponde. Palla che viene messa fuori. Baba Lassan prova a prenderla di testa. Rimane ancora lì la palla. Pululu. Pululu col mancino. Ribattuto. Pirca mette fuori. E riparte in contropiede il Pias Gliwitz adesso. Krikun. Karbowi. Ma porca merda. Wilczek. No, Alvarez è quello del Villareal B. Portiere di Andorra. Habib Keita. Pululu. In profondità a cercare ancora il Maliano. Lo scatto del numero 6. Palla dentro. E spinge la difesa. Zu. Ancora il giovane di Singapore. Singaporeano, vero? Si dice in italiano. Mi suona proprio male, però. Makreczkis. Zidane Iqbal. Djukanovic. Finta di tiro. Allarga per Vidovic. Cross in mezzo. Cercare l'Istes Brewer. Mette fuori. Credo che regà che quelli gilet abbia 57 anni e si sia ritirato da 20. è semplicemente il region di un portiere belga piuttosto vecchio, mi verrebbe da dire. a vederlo, eh. Poi magari non è un region, è un giocatore realmente esistente, ma così turbo pelato di base è sempre un region. No, no, no. No, Nick, avevo già smesso di giocare a baseball da svariati anni. Probabilmente starei facendo un lavoro comune, nel senso non lo youtuber, starei facendo un lavoro come quelli che tanti fanno. Cosa fai? Ah, io lavoro in questo ufficio, faccio il cameriere, faccio il cuoco. Che cazzo ne so, sarei finito da fare un lavoro classico, tra virgolette. Dico classico perché lo youtuber è un lavoro nuovo alla fine, nel grande schema delle cose. Però sì, sicuro. Pidovic. Djukanovic, Listes. Il dribbling. Cross a cercare Pululu, gilet! Grande azione del Jagiellonia, gran parata. Comunque non è pelato. Al capello grigio è sicuramente un giocatore generato dal gioco, un region. Singapuriani! Che brutto, singapuriani. Però ha senso, forse. Ju. Ah! È un Joe. Oddio, si dice Joe, non Zu. Oh, cazzo, lui è il Giovanni, ora. Grazie per la correzione, Ele. Il mandarino, cantonese, o whatever, non è il mio forte. Che culo. Chi lo sa se lo farò ancora per tanto. Dipende cosa intendi dire, è tanto. Quattro, cinque anni? Sì, mi ci vedo ancora a farlo youtuber. Quindici? Eeeh. Non più. O cambio completamente tipo di contenuti, in modo tale da poter rimanere potenzialmente sempre rilevante. Però ecco, di certo non youtuber di gamings. Liste, Sperpululu. Ah, spazio, Afimico! Afimico è inceppato in quest'inizio stagione. Comunque sì, la mia risposta è quella. Non mi ci vedo tra quindici anni qua a fare la carriera di FC39. Però magari mi ci vedo a fare tutt'altro! Mentre il Piastli Vizia trova il vantaggio. Ma io non ci voglio credere. Cosa voglio fare per il milione? A parte che se di questo passo ci arrivo davvero tra quattro o cinque anni. Eeeh. Niente. È solo un numero. Se faccio... Se ancora starò streammando quando ci arriverò al milione. Probabilmente farò il... Dedicherò un paio di minuti ad aprirlo e guardarlo insieme. Dire che è figo, è arrivato! Altrimenti... Nulla. È arrivato il play button. Altrimenti semplicemente all'interno di un video sarà... Ehi, grazie per il milione. È figo. I speciali non sono più speciali. G-Check. Bravo, Iqbal. Buona chiusura, Alassane. Ecco, bella idea. Al milione faccio il face reveal. Mi piace. Vi mostro la mia faccia per la prima volta. In realtà... Regà, questo qua è il mio VTuber. Voi non lo sapete, ma questo è il mio VTuber. Solo un VTuber. In realtà è il mio modello 3D che parla. Non sono reale. Diucanovic in verticale a cercare Vidovic. Si scambiano bene il pallone i due sull'auto di sinistra. Ancora Vidovic. Bartolomeo in area. Tocco di braccio di Reiner. Invece no. Fuori gioco di Pululo. Ovvio. Certo, anch'io vado in progressione con Chapchat. Che cazzo voglio andare? Iqbal. Listes. Pululu. Resiste la carica. Fimico. Dentro per Djukanovic. Ma Pirka? Ma da dove cazzo è uscito? Ma per favore! Fottuto Pirka. Ex giocatore del... Pepegam Rovers. Robert Pirka. Posso uscire una volta senza regalargli palle in maniera stupida? I miei possono comportarsi da giocatori di calcio e non da coglionazzi che hanno indossato una casacca. E' un po' di più. Niente, regà, è finita Ma fai, sei stronzo, ma falla a finire prima Che due coglioni Sti cazzo, ta carriera la sto odiando Mi sembra di fare Un passo avanti e 15 indietro Ogni singola volta che attacco una diretta Ah, un risultato deludente Ma che ne so E questi si incazzano perché c'è da migliorare Dai, ma che minchia vuoi Vabbè Ce lo sta il mielez primo Ah, è il prestito Dove è andato? Dimmi al Belgrano No, al Boca, peccato Dove accettare solo il Belgrano Ha preferito andare al Boca Errone mio Sfascia lo spogliatoio Sì, sì, lancia bottiglia Come in Come in Football Manager per l'appunto Come stiamo messi? Con tre punti Balziamo a 19 Quindi a pari punti Con il Rakov E a meno tre potenzialmente Dal Lublino E dal Cracovia Va bene Io voglio vincere una partita In maniera convincente Finché questa cosa non avviene Continuerò a giocare Mi infastidisco È giusto che abbia perso Contro il Bohemian? Sì È giusto che io sia uscito? No Per quello che ho fatto vedere Tanto è ritorno No È giusto che abbia perso il ritorno Però Questo Sono d'accordo Cioè Se fosse finita 2-0 l'andata E 2-1 per ora ritorno Ho 1-0 per ora ritorno Che comunque vedeva me passare Avrei detto Eh Ci sta E invece Contro il Piastgliwiz Mi sono sentito stupido Più il Gillega Ha fatto 2-3 parate devastanti Habib Keita Non sa passare un pallone Sono già incazzato stasera E ho giocato quante partite? Quattro? Questa è la quarta? Bene Benissimo chat Andiamo alla gra Ascolta Ma che cazzo Dici fallo Giù O Joe Per me sarai Joe Adesso Listes Djukanovic Pidovic Ancora Viktor Djukanovic Può mettere il cross Ribato da la difesa A Habib Keita L'aggancia Listes Liberissimo dal limite Des Va bene Ok Cool Mi piace Errore di Scesni Acri parte Djukanovic A servire Pululu Centralmente Afimico Dal limite Calcia in porta Pallone fuori Peccato No il punto è che non è FIFA Scea pardon FC24 Sestort Sono io che non so giocare Apparentemente E che a volte Cazzo Alcune partite Tipo quelle col Bohemian Mi sembra di controllare Neanche quelle col Piasclivize Cioè se mi chiedete Meritavi di perdere Io vi dico no Ma non perché Sia di parte Tra virgolette Ma perché effettivamente Non penso Non penso mi meritassi Di perdere Entrambe le partite Pululu è il mio terzo Peggiore tiratore Eppure ho già fatto 2-3 gol Da punizione con lui E questo è il quarto E invece no Non ci credo Djukanovic Non ci credo Non ci credo C'è mangiato anche questo Qua ho voluto fare il fico Volevo alzarmela E calciare con Pululu Dopo aver fatto Un piccolo sombrero All'uomo che veniva In pressing Alle mie spalle Non è arrivato nessuno Ho perso palla Come un coglionazzo Musiolik Bravo giù O giù Pululu Cerca il dribbling Cezniak Lo abbatte Vince 12 in palle E poi fa ripartire Di nuovo il Gornik E Nali Gran giocata L'elastico Per poi allargare In direzione di Bates Erroraccio Ciappcetta Listes Affimico Si è allargato Pululu Rallenta Djukanovic Dentro per Listes Si gira Per Baba Alassan Lo scavetto Un'azione fatta bene Un gol bello Lo segna Baba Alassan Primo gol stagionale Del ganese E che gollettino Se posso permettermi Che gollettino Bravo Listes Gran tocco Bravo Alassan Col mancino Ad alzarla QB Per insaccare Alle spalle Dell'estremo difensore Del Gornik Zavrze E ora cerchiamo Un raddoppio E Nali Ma non lo so Giovanni Ma fammi finire questa Se vuole sapere Con che squadra Farò la prossima carriera Venga a guardarsi La prossima carriera Quindi inizierà Zidane Zidane Bal Listes Bravo Cristian Listes Se ne è fatto fuori Uno Due Calcia in portas Cezniak Mura Il tentativo Dell'Ungherese Pulito Pulito Di Vidovic Sul pallone A Bib Keita Vidovic Listes Pululu Spara la porta Prova a girarsi Affimico Allarga Peric Bal Col mancino Bielizza La mette fuori Iqbal Non la prende Peccato Peccato Ah yes Educazione sessuale Sapete che Non so se L'avessi fatta Io alle medie Perché Sono vecchio Rispetto a voi Quindi forse Era un po' troppo Cioè in 2010 Ancora non si faceva O forse si Non ricordo Bielizza ancora Questo giro Sul tentativo Di Listes Però è importante Cioè alla fine È giusto che venga Qualcuno a parlarne Un minimo Di alcune cose Perché se non vi vengono Dette in casa È giusto che qualcuno Ve le dica E insomma E insomma 1-0 Con quel gol Di Baba Alassan Secondo tempo Alla ricerca Del raddoppio Senza concedere Gol Possibilmente Nascimento La giocata Il dribbling Ora Nascimento In aria Il numero 23 Fino in fondo Se lo porta via Makrecchis Buono Gli live Durano circa 3-4 ore Quindi intorno alle 11 Stacco Raga Bravo Iqbal Mette fuori di testa Scesniak Dal limite Nascimento Slattery Bravo Joe Gran scivolata Del nostro mediamo Allora ripartiamo Con Baba Alassan Listes In profondità Da Djukanovic Djukanovic Da Pululu Di potenza Scarica Alle spalle Di Bielizza Al 2-0 Contropiede Perfetto Del Jagiellonia Listes Djukanovic Pululu Oh Era così difficile Fare queste cose Fino a due secondi fa Apparentemente Sì Con Pululu Mi sono mangiato Divorato Quintalate di gol Lassimento ancora Palla in profondità Iqera Alvarez Che poi uccide Musiolik Affimico Per Djukanovic Palla morbida In mezzo Siplak L'erroraccio Regala palla A Zidane Iqbal Che trova il suo primo gol Con la maglia Del Jagiellonia Lex Utrecht Punteggio rotondo 3-0 Ma vedete quindi Che questa squadra La so usare Lo capite che Questa squadra Funziona Lasciate fare L'erroraccio Di Siplak Ma porca minchia Delle azioni Fatte come si deve Oh E Anichki Musiolik Attento al dribbling Ancora Musiolik Nassimento Perennali 2-3-1 Va bene Va bene Va bene Kick off glitch Lo accettiamo Buono Come stando il campionato Boh sono in zona Europa Per ora Peccato che In zona Europa Ci fosse venito Anche l'anno scorso Terzo Quindi qualificazione Alla conference E mi sono fatto Cacciare fuori Dal bohemian Makrechkis Cross morbido In mezzo Yanichki Mette fuori Makrechkis Ancora Joe Habib Keita Slattery Spazza Makrechkis Di testa Baba Lassan Fallo Ok Ma raga Ma io le medie Le ho fatte 40 anni fa Cosa volete che mi ricordi Cioè mi piacerebbe Darvi una risposta Ma cioè Non so se vi rendete conto Di quanto io sia vecchio No perchè lo son tanto E facciamo un po' di cambi Io sono uscito dalle medie 15 anni fa 14 anni fa Era il 2010 Cosa mi ricordo Oh In una cosa Sto seguicchiando L'MLB Ma un poco 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 Raga Ho altre priorità Nella vita Ripeto Sono diventato papà Da neanche due mesi Cursa Toirov Per Breno Laranjero Djukanovic Laranjero Ancora lui Cerca il destro Chiuso Ehm Oh Toirov Cursa 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 Toirov Ha segnato Il tagico Ha segnato Il giocatore Del tagikistan Finalmente Finalmente Il 77 Con un tocco sotto Delizioso Ce l'abbiamo Fatta Bravissimo Bravissimo Cursa Toirov Oh mio dio Comunque no Sono nel 96 Perciò più o meno Ehm Però si Ho altre priorità Che mettermi a guardare L'MLB Ho guardato un po' Di highlights Di lowlights In realtà Della squadra Che simpatizzo io Cioè i socks White socks Non i red socks E fine No Basta Non ho guardato molto altro Musiolik Razak Bates Per nascimento Ancora nascimento Fuori Come angolo Non l'ho toccata Affimico Aspetta Scripchak Si sovrappone Il centrale Affimico Oh la miseria Che chiusura Angolo Bidovic Da la bandierina Cross in mezzo Cercare Scripchak Pallone alto Arbitro Fischia la fine Siamo 4 a 1 Il 92esimo Dai GG GG Perfetto 4 a 1 Benissimo Ero più family friendly Prima perché youtube Era molto più stringente Qua le parolacce Ora se ne fotte il cazzo Youtube Ne fotte il cazzo Anch'io Sono sempre stato così In realtà Allora Qualche consiglio da dare Non arrendersi Non so perché Dovrei dare un consiglio Agli avversari Ma va bene Ehm Ok Dai Bene Non so cosa Ah va bene Non so cosa stia Per fare Il Cracovia Ma Abbiamo uno scontro Diretto Contro Il Rakov Ok Battendo Il Rakov Nella speranza Che il Zaglebio Lubin Non vinca La sua partita Potremo balzare Al primo posto Dobbiamo vincere Però prima Ora Aggiornamenti da Dominica Liechtenstein E compagnia bella Lucas Beck Purtroppo È andato a Racing Deferrol Devo ancora trovare Il giocatore Che mi faccia dire Wow Finalmente qualcuno Di buono Non è apparso Il dubito Che possa apparire Da ora in poi Infatti Stanno facendo Tutti schifo Al cazzo Non ho preso Un allenatore Per i Per i portieri Ora vado a prenderlo Adesso da Dominica Continua a vedere Lo schifo Pi' totale Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che obrobrio Che orrore Allora fa vedere qua Che fastidio Che possa prendere Stanto uno all'anno Non la sopporto Sta cosa Ok Già Prendiamo Va bene Questo cazzo Di mouse Che mi si è bloccato Al centro Dello schermo Ok Scontro diretto Contro il Rakov Cambiamo le magliette Maga Stavo per fare Tutt'altro Cambiamo le magliette Stavo dicendo Quanto è acquistata La nuova casa Almeno uno No dai È una cifra Completata Agli 80.000 euro E i 4 milioni E i 4 milioni e mezzo L'ho fatta l'anno scorso La carriera con i giocatori esotici Si chiamava Nadir Spor La squadra Uno stack Di blocchi Di ferro Allora Quanto pesa Un metro Cubo Di ferro Sono 7.874 kg Quindi 7.874 Per 9 Ah no Pardon Per 64 Sono 503.936 kg Costo Ferro Al chilo 7.50 euro Per 7.5 Sarebbero 3.8 milioni No tranquillo Pagate di meno La casa Pesimo inizio O tieno Ma figurati se Cioè Obiettivamente Quale persona sana di mente No adesso sto scherzando Però A meno che tu non sia Milano born and raised Dubito che qualcuno Volontariamente Possa spostarsi Da Fuori A Milano Per crescere I propri figli La trovo una follia Ah A te dice 22.60 euro Al quintale H 0.22 Allora Aperta che Rifaccio il calcolo Abbiamo detto 7.8 7.4 No 8 7.4 Per 64 Per 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 0.22 226 Fa 113.900 No L'ho pagata di più Di 113.900 Dieboa di testa Chiuso Davidovic Era la Pululo Adesso parte Sua sinistra Subito da Rakovizan Ancora Fimico Listes Habib Keita Col mancino Tiraccio Comunque vi Voglio Far notare Che la casa Non l'ho comprata Cash Ci ho fatto Il mutuo Quindi Capite bene Che Di fatto Di spesa Effettiva Iniziale Non è stata Comunque Alta E non sono pochi i soldi Comunque contenuta Come Diciamo come anticipo Molto Meno di 100.000 Due Milioni Di euro Cash Esatto Così L'ho pagato Albero Iqbal Pululu Afimico Con calma Ormai abbiamo Perso il momento Non abbiamo Carpato Il DM Non abbiamo Neanche Diemmato il carpo. Sima Kretschkis. Sima Kretschkis fino in fondo il numero 25. Alimorchio da Listes. Non riesce a calciare chiudotieno. Kayembe Lederman. Kayembe Reebok. Dribbling. Gran giocata. Krnac. 1-0 Rakov alla prima opportunità. Forse la seconda. Va bene. Oggi va così. Oggi. In questa carriera va così. È ben capito. Bella. Bravo Iqbal che ti sei fermato. Griskiewicz. Listes. Non usciamo a uscirne. Woo! Gran pressing di Kayembe che ora lancia o tieno sulla sinistra. Kayembe ancora. Bravo Ciappet. Gio. L'Istess. Vabbè. Peccato. Babalassan per Zidane Iqbal chiude Griskiewicz. Griskiewicz. Lederman. con calma in cabina di regia. Rakovitsan. Pressato. Tadjukanovic. Svarnas. Bravo Listes. Dentro per Afimico. Buona la palla. Bravo Afimico! Trelovski in angolo. In due tempi. Ancora Trelovski su Babalassan. Peccato. Ah, che bruttura, che bruttura, che bruttura. che bruttura. Che bruttura. Yeboah. Portato sull'esterno. Vidovic. Djukanovic ancora. Scappa lungo l'out di sinistra. Inseguito da Misior. Ancora Djukanovic. Rallenta. Rientra sul destro. Pululu. Listes. Baba Alassan. Joe. Per Vidovic. Habib Keita. Per Listes. La perdiamo. Ribacca. Peccato. Ho spiegato troppo tempo. Deve essere più rapido. E però ogni tanto siamo coglioncelli anche noi, vero? Habib Keita. Pessimo acquisto. Che palla perso Rescu. 2-0. E niente. Giusto così. Vai gol. Quando mi prendo uno sbilanciato, gli altri riescono sempre a segnare. Come fanno questi a essere in superiorità numerica sia davanti che dietro? Non ha senso. Vabbè. Poi i miei si fanno superare come dei cazzo di birilli. Con Rakov maccio malissimo. Ogni volta prendo 4-5 gole. Assurdo. Poi vabbè. Ci ha impostato il piano di gioco. Tranquilli. Tranquilli. È tutto sotto controllo. È tutto sotto controllo. Non so neanche se intendo farla. La carriera con la Feralpi. o una rebuild. Vabbè. 3-0. Il 75esimo è andata. Skip alla fine. Segniamo con Djukanovic. Peccato. sconfitta che quindi ci rispinge in giù in classifica. E ora dobbiamo giocare anche contro il Lubin. Un'altra squadra nella stessa zona di classifica più o meno. Con 3 punti saliamo a 22. Al pali del Radomia Kradom. Meno 2 dal Cracovia nel caso di vittoria. Loro. Più che altro. Posso fare una conferenza per bustargli il morale. Sì. Ma chi la fa la conferenza per bustargli il morale a me? Nessuno. No, Ele. Cosa mi sono perso? Siamo iper altalenanti. Facciamo una partita bene e una male. Una bene, una male. Una bene, una male. Una bene, una male. Beh. Beh, difficoltà infima non lo so. Però sarebbe carino. Tanto con i cheat non mi possono cacciare. Quindi è fattibile anche. È carina come idea. È verde contro bianco. Giochiamo sperando si veda. Magari si può provare tipo... Come video non è male. Come video non sarebbe male. Di ignoranza. Arrivare a giocarsi una Coppa Europea? Vincendo la Coppa Nazionale. Dalla Coppa Nazionale vai a giocarti... O meglio, poi una volta nella Coppa Europea cerchi di vincerla e da lì sali che sia la Conference sali in Europa che sia l'Europa sali in Champions fino a quando non arrivi a vincerla. Bello. È carino. Grande, le busta paga raddoppiata. Preparati a ricevere zero euro anche questo. Che cosa brutta da dire? E la miseria. Urlikovski. Che intervento duro. Ma alla fine riusciamo comunque a uscirne vincitori noi da quel contrasto. Djukanovic. Imbeccato da Vidovi. Che errore del Lubin. Diu Dis. C'è. Sì, d'altro, dovrei perdere tutte le partite in campionato ma vincere tutte quelle di Coppa. È pesa, è difficile. Murawski. Con calma il numero otto avanza. Chodina. Su di lui Vidovic è più veloce il numero sette del Lubin. Pavlovski. In area di rigore Pavlovski. Prova a piazzarla. Ok. Cazzo, ho visto? Non lo so. Va bene. Bravo Djukanovic. A cercare e trovare Vidovi con una verticalizzazione il quale però poi sbaglia tutto. E fa ripartire ancora una volta il Lubin. Nalepa. Gustal. Bravo la Sun. Cosa ha fatto? Tocco di mano, ovviamente. non ho opinioni su una nuova versione della Champions perché va vista prima di avere un'opinione. Cioè, da un lato figo perché spero che il giaghellonia ci finisca in Champions e che sfidi un'italiana. Così vado a vedermi Pululu dal vivo. E sicuramente sarà implementata la nuova Champions l'anno prossimo. Quello è sicuro. Mroz Bravo Iqbal ancora angolo battuto ancora corto Mroz Chodina Kustal in area l'appoggio per Mroz Jukanovic c'è Mroz in qualche modo col corpo riesce a difendere il pallone che stava vagando solitario in direzione out bravissimo Jukanovic con il doppio dribbling peccato che ha il terzo giocatore da saltare se si è fatto gabbare malavente dal difensore Pavlovski Kustal Luis Mata chiudiamolo Sì sì è davvero possibile giocarellonia a Bologna in realtà dipende molto da dove giocano perché col fatto che non c'è andata in ritorno ma c'è una singola partita potrebbero anche giocarla in Polonia purtroppo Palla alta che culo e grazie Erdrago per la donation da 10 roids ma un gigabaccione mega tierless love in chat per te gentilissimo spammate cuoricioni in chat se avete quelli dell'abolamento quindi le emoticon fatelo se no usate il classico cuoricione delle emoji del vostro telefono o computer o apparecchio che state utilizzando quindi grazie mille e sì c'è è lì avevo bisogno di comprare un giocatore montenegrino era il più appetibile di quelli in circolazione Joe Iqbal brutto fallo non ha fischiato niente non ha fischiato niente permettetemi di dissentire sì ma football manager è fatto bene quindi ovvio che funzioni così una lepa luis mata c'è cozzava ancora c'è nessuno per prendersi il cross ancora bravo bravo Bartolomeo Ducanovic gioco il destro e insomma e insomma e insomma Polentanovic gran giocatore Polentanovic Makreczki scolpo di testa bravissimo Ducanovic la perde Murawski lo mura chodina guarda che fanno golla la prima azione loro più che la prima azione il primo tiro in porta Vidovic per Makreczki bravo Iqbal la perde la recupera Zidane Iqbal Nalepa chiude al momento del passaggio a rimorchio Joe Keita Vidovic perché Pululu si sposta sempre lì vicino perché lì non ci va Listes perché Afimiko non sta al centro per il colpo di testa visto che è l'unico capace di quelli davanti inconcepibile inconcepibile Pavlovski qualcun altro che rientra in difesa ma è incredibile assurdo Schimt mette giù Luis Mata cross in mezzo c'è Vidovic Listes anticipato Murawski chodina per Olikovski Iker Alvarez in due tempi Zidane Iqbal Baba Lassan cerca Pululu l'impallo che finisce tra i piedi di Polentanovic ovviamente beccati sto rosso ma va bene guarda lo accetto tanto piuttosto che dargli un gol preferisco concedere un po' di campo con Iqbal espulso Mroz uno difende tutta la cazzo di partita senza concedere manco un tiro in porta arriva Polentanovic che trova il gol della vita xg0,00 palla perfettamente all'incrocio ma ne hanno fatti 5 di tiri io ne ho fatto uno si si poi qualche partita la simulo così almeno torniamo a vincere dei game perché qua siamo in bar ma sono io quell'imbarazzante è colpa mia se perdiamo ma non capisco la ragione perché non mi sembra di giocare male certo magari in questo game ho fatto fatica perché mi chiudevano ogni singola opportunità che avevo ma mediamente non mi è sembrato di giocare male vabbè qua ha fischiato un fallo di 14 anni fa però non so non so se sono io che sono completamente illuso da ciò che sto facendo e che quindi vedo tutte quante le cose attraverso gli occhiali tinti di rosa no e quando guardi le cose con gli occhiali tinti di rosa rose colored glasses ti sembra che vada tutto bene quando in realtà non è così non so se sto indossando questi occhiali attualmente metaforici oppure se effettivamente io non faccia così tanto schifo come i risultati che ottengo in campo facciano pensare e boh la sto prendendo nel culo senza una particolare ragione ti prego ti prego Victor abbiamo vinto un rimpallo è il tuo momento angolo concedilo buono tutti su non sale il porter ma perché v'alto finita peccato bah tutto ciò è inspiegabile poi datemi una vostra opinione ma a me non sembra di star facendo così tanto schifo simuliamo le prossime due vediamo come vanno contro Radomi Akradom e Woj 5 a 1 e con Radomi Akradom vinciamo contro il Woj lo stronzo io allora tutto questo sono ancora alla ricerca di un buon centrocampista dal Liechtenstein non si trova nulla non si trova niente 76-94 portiamocelo in rosa speriamo bene ma no ma guarda allora vogliamo fare una prova? va bene fatemi fare una una singola partita la prossima a difficoltà campione così capite perché non voglio giocare a campione voglio continuare a giocare a questa difficoltà cazzo un 53 bah tu sei un C o C conviene prenderli e sfruttarli per per farci soldi questi qua perché di centrocampisti buoni non ne trovo sono quasi tentato di respinnare la una nazionalità per prendere almeno un altro giocatore a gennaio guardate giusto per farvi vedere campione così ci capiamo siamo sulla stessa lunghezza d'onda eh dai giochiamo contro il uoj via può essere che ogni anno 3-4 giocatori può essere che ogni anno cambiando 2-3 titolari la squadra si sminchi però è anche stupido se fa così tanto dal differenza non mi invoglia a fare mercato che è l'unica cosa che vuoi fare in carriera oltre a giocare le partite cioè capite che è stupidissimo intanto partiamo in questa partita da giocata difficoltà campione con Pululu che si fa murare dal portiere del uoj gran parata Vidovich ha la bandierina dentro a cercare Alassan ancora Arndt Arndt sto giro è Djukanovic ancora Arndt Vidovich da Baba Alassan chiuso Ciappet Djukanovic ribattuto mano rigore Pululu dal dischetto palo cazzo ho sbagliato la cosa più facile ho sbagliato vabbè Joe sbaglia tutto Sliva Futkeu ce l'abbiamo ancora noi Listes Alassan Zidane Iqbal imbeccato dalganese chiude Rizzadur Misi che poi si fa fottere il pallone Iqbal palla dentro Pululu controlla male Gulen riparte con Lentniowski in verticale Zajac bravo Iqbal Bidovich per Djukanovic Keita Bravo Iqbal Alassan Pululu perdiamo il rimpallo Durmisi esce bene Rizzadur Misi Joe Pululu Moricki Turmisi Williams riescono a uscire cazzo riescono a riescono a difendersi i maledetti Gonsalves Letniowski Sliva oi 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 mi hanno ucciso il difensore Zajac per Futkeu col mancino palla fuori perché non faccio beh in realtà i video sulla carriera li faccio certo con scenari stupidi ma li faccio poi la classica carriera ciao ragazzi benvenuti al video numero 47 di questa carriera non è il mio content per ora poi magari lo diventerà questo non lo non lo non lo escludo però attualmente non lo è ah Fimico la tiene dentro torna dietro da Zidaniqbal Joe col mancino sul fondo pessimo Joe pessimo cosa ma guardate che il suottilo con la Samp aveva matchato benissimo anche all'andata non sono stupito che aveva giocato bene con la Samp e il suottilo gioca cioè gioca così sempre fa sempre la sua partita dal stesso modo gran gol di Tite lì Odogo ha fatto un lavorone adesso il suottilo è a meno 3 dalla zona playoff Eriden scherzando inaspettatamente a meno 3 quest'anno io lo davo come neanche lontanamente vicino ai playoff invece il suo lo fa Bidovic Djukanovic dentro per Pululu Mokryczki Alassane Iqbal sbagliamo tutto Zajac Mokryczki Lui Keita Pululu Listes Djukanovic non ci credo parata traversa riga Vabbè 0 a 0 dopo il primo tempo però spero che si intraveda ciò che intendo certo io continuo a non segnare ma loro non hanno superato la tre quarti campo se non una volta sulla fascia ho recuperato palla e sono ripartito spesso la loro azione finisce addirittura prima della metà campo tipo adesso spesso e boh mi sembra un po' lame giocare così alla lunga perché quello che lamentavo della difficoltà leggenda che aveva di mezzo tra campione ed estrema ma leggenda è ingiocabile perché è l'unico modo in cui gli avversari riescono a fare qualcosa con i rimpalli e mi dà fastidio cioè almeno è estrema la partita è più combattuta a campione mi sembra di dominarlo troppo il gioco poi per carità magari ci sta che con una cosa del genere io nel campionato polacco possa dominare altro rigore troppo può essere che sia capitato ma non ci ho mai fatto peso a queste robe qua sì quello è vero il campionato di B è chiusissimo però io penso che il suit ultimo quest'anno punti davvero alla salvezza tranquilla e basta cioè nel momento in cui è salvo se entra ai playoff come ottava ok cool se non ce la fa eh it happens l'importante era salvarsi credo che la vedano così cool infinta e lancio gonsalves nstave lenga durmisi in qualche modo durmisi riesce a far filtrare il pallone ma poi lo perde l'uog listes alassan ce l'abbiamo noi jo listes in verticale da pululu a fim mico contro arnt la calcia alta che palle e il bali mi dispiace perché l'anno scorso era mezzo passo dalla a è una bella è una bella squadra giocava bene poi quest'anno il crollo e grazie brurco per il rinnovo da pepegotto premium un bacione buon uomo come stiamo grazie mille bravo pululu tu per tu ancora con arnt ma che cazzo c'hai no ma allora ti dico ci sta carriera chill che ti fai nel tempo libero mi sta bene che cioè fosse nel mio tempo libero la giocherei a campione ma in live se devo giocare a campione e domino ogni singola partita insomma dopo un po' che palle è giusto che ci sia un po' di sfida no soprattutto siamo alla terza quarta carriera la prima la prima che la fai per chillare tipo quella col su utirol la fai per chillare per raccontare una storia mi sta bene ma le altre che le fai per giocare in live e far vedere qualcosa e ci sta che vabbè vaffanculo se un attimino più no uno ci voglia mettere un po' più di pepe se no finisce come la carriera del del pipoburg che arrivati a una certa non giocavo neanche più simulavo e basta perché tanto la squadra era troppo forte Jojo Sliwa Jojo Sliwa proprio lui bravo Zidane Iqbal bella chiusura Ciappet Iqbal Baba Alassan Per Pululu posizione regolare di Affimico Arndt con l'ottava parata tutto bene dai Brurco tutto ok un po' cotto non vedo l'ora di traslocare ma tutto bene vaffanculo Arndt ha fatto 27.000 parate vai a cagare ma davvero dopo guardo quante parate ha fatto Arndt Comunque si regà 1-0 con 87 azioni mie bravo Listes col pressing 1-0 ma poteva finire tranquillamente anche 4-5 a 0 con il loro porter che ha fatto un'infinità di parate ho fatto 17 tiri loro 2 4xgino fatto 1 vabbè quello è perché un po' sono pepegotti un po' sono pepegotti loro no volevo guardare le prestazioni il loro porti era fatto esattamente 7 parate oh non lo so capite che a giocare a questa difficoltà mi sembra un po' lame mi sembra un po' lame personalmente mi pare lame poi magari voi dite tier ma chi se ne frega preferisco non lo so tocca al push col push simerei no una parte di me ti dice magari tornare a bolzano costa troppo seguiamo il push alento no ho sbagliato volevo fare estrema oh magari rifacciamo una partita leggenda perché magari leggenda adesso che sono abituato a giochicchiare un minimo a estrema mi rendo conto che alla fine li impalli erano tutti nella mia testa perché ero abituato a campione però magari ce ne tanti quanti a estrema non lo so si può provare anche quello nel caso non è un problema per me proviamo a vedere qua non scendo in campo perché tanto la simulazione va per i cazzi suoi indipendentemente dalla difficoltà che ha impostato cioè tu puoi mettere principiante puoi mettere estrema competitiva sempre in quel modo va però voglio però questa la voglio calciare proviamo a vedere la leggenda con le slider palo di cheralvare speccato ah dopo la parata per giunta rigore facciamolo tirare a pululu parato ripeto la prossima la giochiamo a leggenda per capire se era una mia impressione o se effettivamente le cose che giocata di Djukanovic per capire se è tutto nella mia testa oppure se si può giocare a leggenda chi lo sa e le slider modificate regà non me le ricordo adesso come adesso ne ho modificato durante la carriera con il city roll può essere anche che l'abbia persa perché più di una volta ho dovuto tipo fare dei backup dei file di gioco e quindi può essere che non siano neanche più applicate le slider per quanto ne so in conference sono usciti dai preliminari Andri contro il bohemians la squadra irlandese vabbè andiamo al risultato qua 2-0 segna anche listes non hanno fatto un tiro in porta loro sono uscito ai preliminari come un coglionazzo vabbè allora quella col corona chielce la voglio giocare a leggenda inoltre vi dico anche che nel caso in cui nel caso in cui intanto butta tutto sulle prestazioni di tutti no nel caso in cui non dovessi trovare giunti a gennaio nessun centrocampista da Liechtenstein o Dominica vado a randomizzare un'altra nazionale non posso star qua all'infinito ok almeno in questo modo posso avere un oh cazzo ho sbagliato ho azzerato la lucidità a tutti ups lascia perdere ho vinto 1 a 0 nell'andata il ritorno ho preso un gol al nono minuto non ho più segnato e al minuto numero 4 di recupero del primo tempo supplementare su 1 concessi ho preso gol va bene raga conferenza stampa per bustare un attimino il morale e poi giochiamo a leggenda per vedere se effettivamente la difficoltà è più accettabile oppure se è peggio rispetto a estrema ripeto a campione per quanto abbia vinto solo 1 a 0 non mi sono mai sentito veramente in in pericolo e con la necessità di difendere un po' lane se posso vai ok no me le tolgo me le tolgo non le metto a favore mio ma anche agli altri le tolgo tipo i passaggi i tiri aumento le parate dei portieri quello si perché in molti casi sono rincoglioniti va bene signori giagiellonia corona chielce difficoltà leggenda a campione mi sento troppo padrone del campo e non mi piace giocare partite che sembrano troppo semplici sebbene ripeto abbia vinto soltanto 1 a 0 ma con loro portiere che ha fatto almeno 7 8 parate e se fosse finita 3-4 a 0 nessuno si sarebbe scandalizzato contando anche che ho pure sbagliato un rigore a estrema forse sono un po' troppo in difficoltà proviamo a vedere leggenda Vidovic sbaglia tutto Fornalcic già vedo un bel rimpallino di quelli tattici che piacciono a me Fornalcic ancora Dalmau bravo Joe che intervento difensivo del cdc di singapore il nostro numero 4 che poi verticalizza la ricerca di Djukanovic eccolo qua Lex Amarbi Punta Ahmed non penso lo si possa considerare come saltato Zidane Iqbal carica il destro pallone doppio rimpallo sulla faccia di Iqbal finisce poi tra i piedi di Trojak e Cicizki Cicizki lui Cicizki Takac Bravo Bravo Keita Fornalcic cross in mezzo rigore concesso è certo tocco di braccio di Djukanovic ma l'ha presa di testa due volte comunque vabbè Dalmau contro Alvarez 1-0 corona ma guardate che io per quest'anno carriera in Italia non ne faccio più forse una rebuild partendo dalla serie B con una squadra di B ma non di più Listes Vidovic cross in mezzo non la prendiamo peccato Joe Takac Kowalczyk Remakle Takac ancora bravo Joe cosa ha fischiato Man vabbè Comunque vi dico che siccome col Sweet Troll considero a livello di narrativa un po' conclusa l'avventura l'anno prossimo la prima carriera non sarà col Sweet Troll e forse manco la faccio in Italia la prima carriera dell'anno che è quella che poi viene editata non so con che squadra partirò non so da dove non so perché ma si vedrà anche in base un attimino a quelli che saranno i campionati presenti le squadre presenti perché magari si crea la possibilità l'opportunità bravo Babalassan che calcio altissimo di creare qualche story là in figa quindi si vedrà e in figa l'abbiamo di creare qualche l'abbiamo di creare qualche il nostro di creare qualche e in figa che c'è l'abbiamo di creare qualche bravo Fimico 1-1 però ripeto vediamo perché adesso dubito a che accadrà proprio per i vari motivi che vi ho spiegato mille volte ma dovessero mettermi la serie C italiana e in quel caso si parte dalla serie C italiana con che squadra? beh dipende da chi ci sarà magari dalla D sale l'ignorante squadra dalla Val d'Aosta vuoi che non prenda la squadra della Val d'Aosta? ma certo che la prendo poi è tutto sì nel campo delle ipotesi perché non la metteranno mai la C in via ufficiale però magari vanno le mod quindi la serie C italiana la faccio a metà anno quando escono le mod chi lo sa? raga bisogna vedere sì ma le mod non escono al day one le mod escono dopo 3-4 mesi almeno di solito quindi le prime mod serie le potremmo vedere intorno a marzo-aprile addirittura quindi magari è più una carriera da fine anno quella in Italia di FC 25 si vedrà si vedrà Babal Hassan Iqbal Makrecchis di ritorno da Iqbal Joe dal limite Djukanovic Vidovic perché Pululu non è in mezzo a colpire di testa quella palla gran parata di Han parlo di FC 25 raga parlo di 25 non del 24 Czapcet parato sulla linea da un difensore del Corona Kielce Vidovic Czicchi gran giocata gran dribbling del numero 98 Buono Oddio ma sapete che davvero forse i rimpalli erano nella mia testa ora che mi sono abituato ad estrema quasi quasi leggenda alla via di mezzo giusta No si è fatto male il Czapcet Pro ti prego Takac bravo Alassane Sibaba Affimico col mancino sul primo palo Han in angolo Vidovic Tapululu colpisce male sbilanciato dalla difesa che la tocca e quindi calcio d'angolo di nuovo ancora Bartolomeo Vidovic dentro da Alassane palla fuori Peccato Listes Alassane dentro a cercare Pululu Pululu col cross in mezzo nessuno va sulla palla tutti lontani Czapcet è già ripreso dall'acciacco di qualche minuto fa Vidovic Habib Keita che mi piace proprio poco come giocatore posso dirlo potrebbe essere uno dei primi indiziati a partire insieme a forse ad Alassane stesso che Alassane pure non è che mi stia facendo impazzire buono l'anno scorso perché era un gigantesco upgrade rispetto a Nguyen Ba e a Yunus Sa in termini assoluti Somm rigore ovviamente per fortuna che l'ha calciato di merda dal Mau Yucano invece cercare Pululu Trewin Ahmed prestato adesso il numero 2 esce egregiamente Remakl Kowalczyk Cisicchi Cisicchi che l'Alvales ancora in angolo sì comunque ripeto due rigori del cazzo abbiamo concesso eh qua non ho avuto nessun girone raga sono uscito ai preliminari è stato triste Certo Ahmed più veloci di Pululu 92 di velocità certo Han Ahmed Kowalczyk 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 dentro da Pululu che la tocca e quindi è fuori gioco lascia correre l'arbitro anche se non avrebbe dovuto e finisce 1-1 ma posso dirvi che leggenda non mi è parso male perché 1-1 con loro che hanno semplicemente segnato su rigore mi può star bene forse e forse abbiamo trovato la via di mezzo giusta e la via di mezzo giusta è quella che ho evitato come la peste per tutto questo tempo la difficoltà leggenda mi sta bene mi sta più che bene in tutto questo siamo arrivati al mese di dicembre arrivano i resoconti dell'osservatore oh cambi di ruolo per Florian Beck che diventa un buon difensore centrale anche lui promuovilo e prova a darlo via che magari ci cresce un attimo non sto trovando centrocampisti centrali in tutto questo impossibile trovare un buon centrocampista centrale ma anche l'anno scorso quando ho fatto la carriera con solo giocatori della della cantera praticamente minchia i centrocampisti centrali e i terzini erano impossibili da trovare non so per quale ragione vivian wallace un milione e uno attenzione forse abbiamo un uomo potrebbe essere un 63 64 un 63 niente acquisto extra abbiamo un nuovo centrocampista da dominica vivian wallace alleluia lui lo proviamo per rimanere però bravo viviano numero di maglia sei un centrocampista siccome ho quei numeri fottuti di cervello che non hanno il minimo senso diamone uno tipo il 54 a vivian mi piace fatemi segnare anche gli altri che sono qui ormai prossimi al prestito con i numeri alti ok loro due florian lista prestiti bene alleluia 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 ciao wallace buonasera benvenuto abbiamo un centrocampista bene sono contento quindi niente acquisto extra gennaio cazzo listes quanto è cresciuto mi faccio davvero l'intera squadra l'anno prossimo se vendo listes ovviamente se decido di venderlo va bene allora giusto per provare un attimino la mia tesi direi altra partita leggenda e dai questo giro contro legia varsavia prima contro quarta noi siamo clamorosamente primi nonostante tutto ovviamente anche l'anno prossimo tutto quanto dipenderà da quali saranno le nazioni estratte perché se esce tipo San Marino Tuvalu Niue Repubblica Dominicana e Italia dice vabbè ho un solo acquisto Italia buono gli altri no guarda faccio a meno grazie mi tengo mi tengo listes porca puttana peccato mi tengo listes magari facciamo che ecco ho più o meno un'idea magari per evitare poi una volta raggiunta l'Europa che conta un po' come abbiamo fatto con la carriera interattiva del Pepe Gum Rovers che una volta raggiunta la Champions non avevamo più dei limiti negativi ma soltanto limiti positivi nel senso che i giocatori che mi dovevate far acquistare dovevano avere un overo al minimo e non più un overo al massimo cosa che avevamo fatto fino a quel momento potremmo fare una cosa simile qui che praticamente mi impedisce di beccarmi in azioni di cui non c'è nessun giocatore quindi passare per forza per la cantera per più di un giocatore a sessione di mercato quindi se gli acquisti che faccio sono 5 soltanto uno può provenire dalla cantera gli altri 4 devono essere giocatori realmente esistenti potremmo fare una cosa del genere come leghi a Nicolussi Caviglia Hans ma che ti succede ma Hans eh sì è finito a leghi a Nicolussi Caviglia bravo Makrechkis fino in fondo il lettone all'indietro per liste Stobias presa bassa agguanta la sfera e poi rilancia ripartendo da Carvajal l'appoggio a Mustafaev lo scatto del numero 6 lungo l'auto di destra inseguito da Vidovic Mustafaev può mettere il cross invece temporeggia eccolo qua il cross Ciappet mette fuori Pululu controlla l'appoggio a Djukanovic Vidovic di prima a cercare Pululu Afimico in area di rigore Pulula tu per tu con Tobias c'è arrivato Tobias e poi Zidani Kbal al 25esimo porta avanti il Jagiellonia 1-0 ma sapete che davvero leggenda è la via di mezzo giusta clamorosamente fare lo scalino allora il punto qual è? estrema è molto meno bullshit sotto mille aspetti ma è tosta davvero ed è forse un po' troppo per me però abituato a adesso a dover gestire il forte riesco forse a gestire anche il bullshit forse è presto per parlare è letteralmente ho giocato una partita e neanche mezza ho giocato 1,25 partite bravo per Pululu palo ma che sfiga Fimico però si forse è così la situa Alassan Djukanovic cerca il colpo di testa in mezzo diviato la difesa finisce dalle braccia di Tobias liste fallo ok quando mi trasferisco tra un mese più o meno quindi si manca manca sempre meno ma tra un mese puramente per questioni logistiche se no io sarei partito anche questo weekend e con questioni logistiche intendo dire che avendo la patente da poco ed è solo la patente B non posso guidare il furgone per i traslochi ho bisogno che lo faccia mio papà buono intanto il pallone per Listes Listes ha tu per tu con Tobias ancora Tobias ennesima palata dell'estremo difessore polacco Vidovic a cercare dentro la testa di Djukanovic Tobias ha scassato il cazzo Tobias Alassan Baba 2-0 colpo di testa la sponda di Djukanovic sul secondo palo appare Baba Alassan di prima intenzione col mancino in sforbiciata batte Tobias e c'è il raddoppio del Jagiellonia bello questo posso dire che premesso era un tiro quello di Djukanovic però ammetto che mi è piaciuto come è venuta fuori l'azione poi bravi forse ho trovato davvero la quadra del cerchio vuoi sapere una cosa molto fica sulle banconote in franchi svizzeri che non possono essere sia franchi che svizzeri oppure che tipo se le lecchi sa di formaggio un po' come quelle canadesi se le strofini sanno di di acero pululu vidovic pululu ancora in area di rigore a Fimico la 2x2 con Tobias pululu pallonettazzo alto la cosa delle cartucce della Switch l'ho sentita ma non l'ho mai testata e non intendo farlo ma dicono che abbiano un saporaccio apposta per diciamo andare a repellere i bambini che provano a mangiarsele non intendo leccarla però è quello che ho sentito fun fact numero 1 sul Franco svizzero Franco in realtà è soltanto il suo secondo nome il suo primo nome è Giuseppe aspetto la parte 2 buon tentativo peccato ma perché mettersi lo smalto che ha odori pessimi e sapori pessimi quando puoi metterci l'aglio ma perché poi uno magari lo strofina sul pane fa bruschetta sono già confuso matematica ma perché non scriverlo con tutte e quattro e basta ma è così complicato cioè mica devi scriverlo enorme puoi scriverlo a capicino secondo me è semplicemente qualcuno che ha voluto fare un esercizio di stile per sentirsi fico ma non è assolutamente necessario musta 5 col cross bravo Joe ma still ma ce la fai a mettere delle scrittine piccole mica deve essere perfettamente grande leggibile a meno che così non preveda la legge in quel caso ok questa è la legge svizzera 6b cheat mano punizione vero punizione colosa colosa ciapet che è quello che tira più forte qua 77 79 78 pululu baba per la doppietta porca puttana che sleppa Joe per pululu rientra sul destro listes la cicca con il gioco peccato chi vince Champions Europa e Conference allora l'Europa la vince l'Everkusen la Conference la Stone Villa la Champions Champions la può prendere chiunque Sinch bravo Alassane a servire Iqbal Zitane Iqbal cross dentro da lì stessa la chiude Christian Listes 3-0 esordio per Vivian Wallace ma giunta a questo punto un po' tutte le squadre la possono vincere 3-3 sull'Everkusen sull'Everkusen ooooh finalmente un risultato di cui posso essere felice e anche per il modo in cui è arrivato bene regà facciamo toccare il primo pallone a Vivian eccolo qua il giovane giocatore da Dominica l'ultimo a toccare la sfera in questa partita 3-0 netto e per fortuna e per fortuna ci voleva poi oh regà tra parentesi è ovvio che io speri che la vincano le italiane che l'Europa League la vinca una tra fucking Milan Roma e Atalanta e la conference la Fiorentina poi ci vedrà offerta per il prestito di Beck salve al Barracas Central bello bello prestito breve divertiti per 6 mesi al Barracas e fallo in fretta ah no beh c'è tempo ancora siamo ancora a dicembre e ora contro il Zagleb e il Lublin Lublin per consolidare il primo posto io direi di simulare perché l'ho già giocata 3-2-1 bop Vidovi che doppietta di Pululu con gol di Djukanovic 4-1 non ce n'è per nessuno rischio di perdere un giocatore chi naranjo e vabbè è un coglionazzo che non vuole accettare il rinnovo lui sono cazzi suoi vero ok contro l'uogge ho appena giocato quindi altra big skippata Pululu Iqbal bene ma Chiara Maria io spero che lei abbia mandato a cagare il professore io credo che sarei scoppiato in un bel ma si fotta metta gli occhiali turbo cazzone cazzona è una signora quindi mi gendere il professore era una scusa come un'altra perché non aveva idea di che cosa avessi detto perché si era addormentato durante la presentazione allora doveva inventarsi una scusa per abbassarti il voto giovane vuole andare via gg tunner vabbè gg vai che ti devo dire allora 3 di gennaio un tanto programma di allenamento butta tutto quanto sulla lucidità per tutti così arrivano belli pronti in secondo luogo in secondo luogo gestione squadra milan roma è finita 1 a 0 è comunque non è finita 4 a 0 quindi è possibile rimontare bastano due gol di vantaggio capitano molto spesso nel mondo del palone allora qualcuno chiederà la cessione sicuro e in caso dovessero chiederla possiamo fare un acquisto ok back e tunner in prestito vediamo se arriva la richiesta di bertsberger perché mi sembra frizzantina la situazione sono arrivati i resoconti vediamo se becchiamo qualcuno dall'ichtenstein visto che ora da domenica il mio giocatore ce l'ho mi pare però che da l'ichtenstein c'è nessuno Dario Maier stesso nome che aveva il mio centrocampista della carriera che ho fatto col nadispor forse non era Dario ma era Maier sicuro il cognome cazzo avevo un buon potenziale l'ho cancellato solo a pensiero quanto guadagno al mese ma una cifra compresa tra i 2000 e i 3 milioni e mezzo stiamo larghi attenzione a ibertsberger hai sporadico io meno di così non ti posso dare lucas vuole giocare vuole giocare di più ma al posto di chi lo faccio giocare di Vidovic sei stronzo era Dario giusto ok partita contro il Woj ma questo è l'altro Woj un bravo script check che sale di un paio e ora partitozza contro il Woj per staccare il Rakov dai giochiamola questa che era solo ma si giochiamo questa e forse un'altra e poi andiamo a nanna tra milan e australia chi vincerebbe il jet lag gli abitanti di dominica si chiameranno domenico domenica mimmo mimma right non sono i dominicani saranno tipo i gli sfrombolieri dai andiamo contro il Wizz of Woj dominicensi fra si evolvono in dominiblissi sono troppo stanco e devo smetterla di parlare quando si si scusate scusate non potevo non cogliere quest'opportunità questa palla al balzo non poteva non essere colta e insomma ripartiamo da questo geghellonia Wizz Waj 0 a 0 dopo un quarto d'ora nessuna squadra ha fatto niente stiamo chillando a metà campo Cibulski sbaglia l'imbeccata Alassane Pululu tocca corto da Habib Keita largo da Djukanovic Listes di prima da Pululu che carica il mancino e trova una botta potentissima che si infila sotto la traversa vantaggio giochi e Lonia alla prima vera opportunità ma bravissimo Listes qua praticamente in Noluca Sevire Pululu che gli arriva dalle spalle e la infila esatto e da piccoli sono domini happy esattamente esattamente peccato sbagliamo la sventagliata ciao Manu the catch per Duganzic Duganzic in area numero 11 pressato da un nostro uomo gran parata di Keralvarez come bisoli al Modena cosa mi sono perso no vabbè tanto il Modena adesso si salva l'anno prossimo arriva i playoff li vince e poi l'anno dopo in afara schifo anzi può addirittura fare il push per con 5 partite rimaste per i playoff Cibulski beh ma ha senso dai bianco stava iniziando davvero a far giocare male il Modena ed è un peccato perché il Modena gran squadra cioè i giocatori ce li ha io l'avevo previsto quinto fa conto te bravo liste Sperpululu a Fimico col destro la caccia in tribuna giro Shigankis Shiganix pardon ma Kretschkis che cazzo fai ma perché Listes ha fatto lo schermo Bisoli era il suo tiro fino tipo alla decima giornata di quest'anno poi l'han cambiato ha preso Valente ma il motivo per cui il suo tiro l'ha cambiato non è che Bisoli stesse facendo male è che la squadra non lo sopportava più Dugansic palla dentro Iker Alvarez e Vidovic compinano il pasticcio Woj che trova il pareggio uno a uno ci può stare non stavamo giocando benissimo siamo un po' distratti e quindi si meritano il pareggio i giocatori del Woj poi lui lo sbaglia sgiro lauri per Kretsch lui che è il primo tempo ah comunque Bisoli Bisoli è un gran motivatore però se guarda cioè se guardi storicamente oltre un anno non ha fatto tanto bene tranne in un paio di occasioni è ottimo se devi prendere una squadra a danno in corso e portarla fino alla fine per far bene poi probabilmente è la squadra che lo molla Vidovic da la bandierina mancino ad uscire verso la testa di Djukanovic Krajcirik e allora ci sta Vidovic ancora a cercare Djukanovic Habib Keita la mette giù col braccio l'arbitro fischia ma giustamente 0 di Liberto il registra che con calma si appoggia Marco Sanchez avanza il terzino fa una mezza stronzata 0 ancora Sanchez Cibulski Lauri in verticale a cercare Dugansic Dugansic col mancino traversa pallone da Klimek che trova al 2 a 1 la rimonta con la doppietta di Klimek due gol due gollonzi a porta vuota per l'esterno sinistro del Woj che si è trovato due rimpalli a favore eccoli qua i rimpalli della difficoltà leggenda sono proprio loro i famosi rimpallozzi Djukanovic dice il pallone da Iqbal lista e sta il dischetto calcia pululu non riesce a prendere il pallone Krajcik si allunga e fa sua la palla Joe fa una puttanata ma guadagna la punizione va bene così Cia Pet Habib Keita ok 0 Iqbal di testa pululu di ritorno dall'iracheno pululu ancora posizione regolare di listes guarda si chiama il fuorigioco perché non c'è che azione finalmente finalmente un'azione clamorosa pululu con lo scavetto a cercare l'istes che la mette giù e poi tocca in mezzo per Djukanovic tapina porta vuota tapin vincente 2 a 2 la riagguantiamo ed è giusto così per mantenere la vetta della classifica dentro Kursov Toirov e dentro Iqbal Iqbal no cazzo ho tolto un Iqbal per mettere un altro Iqbal che cosa magica va bene adesso è tutto ok Diliberto vedete attenzione perché possiamo addirittura puntare al 3 a 2 lo voglio Lauri Tuganzic Diliberto Ciappetta addirittura in pressing su 0 Diliberto l'istes prova a strappargiela il vantaggio era finito 6 anni fa comunque fra Tkach Palla lunga in mezzo Terpilovski Lauri bravo Iqbal 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 in qualche modo nonostante il rimpallo diciamo comunque uscirne bene Djukanovic Habib Keita Habib Keita Napip Keita Bravo Iker giusto giusto ho raddoppiato è vero dimenticavo che è Iqbal Iqbal non soltanto Iqbal abbiamo Zidane Iqbal 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 in questa squadra vi prego prendiamola noi una volta prendendo un terzo gol su un altro tap-in avrei pianto Djukanovic Pululu si è proposto bene l'angolano ancora nostro numero 10 Afimico Habib Keita con calma allarga Davidovic Pululu finta di tiro in area Afimico indietro ancora Vidovic dal dischetto Vidovic non riesce a passare liste con la chiusura si 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 fucking stupid oh mio dio pululu contro cry chirick il 3 a 2 si 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 ribalta! La contro ribalta! Il Jagiellonia! Siamo avanti al novantesimo! Ah! Il mondo è giusto, la vita è bella! E bravo Ciappet! Teniamola, teniamola! Teniamola o cerchiamo il 4-2 addirittura? Oh! Ah, niente dribbling per Djukanovic, ma finisce così! Jagiellonia 3 Wizzewoge 2 Grazie a una grandissima giocata della combo portiere difensore centrale del Woj E con questa ci portiamo a più 2 sul Rakov a più 3 addirittura Forse più 3 Pululu straordinario Imbattuti da 9 abbiamo i giocatori giusti Forse serviva questa annata Serviva Siamo usciti subito ai preliminali di Europa ma questo ci permette di far crescere ancora di più i nostri più 3 sul Rakov secondo e poi Corona Chielce Coppa contro il Cracovia è fra e si gioca la Coppa contro il Cracovia Allora Preferisco tenermi un po' di giocatori carichi freschi per la Coppa quindi facciamo giocare un po' tutte le riserve Keita può giocarmi tutto il game Davide bravissimo Naranjo per Iqbal ma poi vieni spostato di qua dentro Toirov dentro Udo dentro l'Aranjero posto ho cambiato tutti tra Keita e Alvarez vero 1 a 1 Naranjo va bene per averla giocata con tutte le riserve mi sta bene voglio concentrarmi sulla Coppa sono arrivate offerte per no Vivian Wall se basta ok quindi Ibertsberger rimane almeno fino a fine della stagione ah no il modulo è rottissimo è un 3-1-3-1-2 che in realtà è un 3-1-3 è un è un modulo ok è un modulo va bene allora ultima partita di serata raga proviamoci proviamoci a guadagnare un accesso a una fase che non sia il primo turno della Coppa di Polonia visto che siamo sempre usciti al primo turno forse una volta accidentalmente al secondo non lo so signori vai è un asterisco si no ma è una si chiama stella marina il modulo in realtà che in realtà sono i braccetti della difesa che però sono segnati come terzini i due esteri e la punta è il modulo Patrick esatto Yucanovic subito lascia sul posto Conoplia cross secondo palo a Cercarik Ball chiude la difesa del Cracovia Smiglevski Rakoczki Rakoczki forse Rivera è partito adesso il numero 23 del Cracovia rimontato da 12 giocatori del Jagiellonia che però non fanno in tempo di intervenire Iker Alvarez in angolo cross in mezzo di Atanasov bravo la Sun prende di mano Viktor Djukanovic fatemi rivedere certo certo l'ho toccata col cazzo e quindi è fallo perciò è calcio di rigore vantaggio Cracovia al minuto numero 8 dal dischetto Rakoczki e bisogna rimontare benissimo Rivera fino in fondo Rivera bravissimo Makreczkis con l'intervento Babalassan sbaglia tutto guardate che esco dalla coppa anche qui bravo Joe Vidovic ancora Vidovic bravo Bartolomeo a servire Viktor Djukanovic cross a cercare liste schiuse Giza Joe Keita Habib Keita col mancino Giza la tocca col braccio punizione punizione e allora da qua non può che andare Afimiko l'uomo che fin qui ne ha messo già tante di punizione ci riproviamo con l'esterno Afimiko sopra la barriera sopra anche la traversa prediction playoff NBA allora vince una squadra di basket ma soprattutto triunferà l'amicizia non lo so non l'ho seguita tanto la stagione quest'anno lo ammetto peccato che azioncina mica male liste che non riesce a chiuderla per l'uscita del portiere del Cracovia con i padroni di casa che adesso ripartono a Tanasov salta l'uomo Mygord fuori gioco del numero 11 bene Jukanovic per Listes Listes palla sul destro va sul secondo palo basso Vilk bravo a intervenire su un pallone insidioso allora calcio d'angolo battuto Davidovic Pululu in torsione riesce a colpire la palla alta vero mi piace Libellula come nome per il modulo è il modulo Libellula sono il nuovo Tiago Motta lui giocava col 272 io gioco con la Libellula dopo una serie di colpi di testa la prende Davidovic sventagliata sbagliatissima perché finisce sul petto di Jaroszynski invece che sulle gambe sui piedi del nostro terzino destro Lettone la tendenza sul Cracovia che entra in area per il 2-0 siglato da Smiglievski e ora ci tocca turbo rimontare non so neanche se saremo in grado di farlo bravo Djukanovic Djukanovic provo a calciare Skovgord poi Maigord riparte Atanasov bravo Listes la tiene anche dentro ghizza con la chiusura peccato perché stavo per andare in porta con Pululu Habib Keita un giocatore inutile ultima partita di giornata sì 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 2-2 anzi perdono 2-0 dopo il primo tempo devo fare qualcosa per ribaltarla ma non saprei da dove partire non saprei da dove partire Joe ho dovuto allargare perché Pululu era già in fuorigioco Maigord Smiglievski Smiglievski ancora bravo Vidovic va bene oddio ma io non ho mai visto Inazuma Eleven boh non lo so Jukanovic per Vidovic Pululu Afimico Alassane no sbaglia tutto Alassane che invece di servire Joe serve Smiglievski Pululu il tocca cercare per Zidane Iqbal Vilk peccato la giocata è la giusta la giocata è la giusta per Zidane Pfff jean Iarodzinski Rakocchi bravo Ciappet Atanasov Joe Pululu Apre per Djukanovic con Oplia La chiusura del 14 Che poi lancia pure Maigord Attenzione Rip Perché è giallo Eqbal? Hm Hm Vidovic mancano 20 minuti Dobbiamo inventarci qualcosa Per risolverla sta partita Se no Per l'ennesima volta Saremo costretti a uscire Il primo turno Di Coppa di Polonia Mamma mia Fimico Che cazzo sbagli Spunerismo Bello Soffro di cucchiaite Habib Keita Sbagliato Habib Keita Habib Keita Habib Keita Bravo Iker Ma che io sappia La level 5 Non è che fosse ferma Per sport Era ferma Per difficoltà economiche Non poteva fare molto Già tanto se non anche uso Da quel che ho capito Poi magari ho capito malissimo Eh però Ciao Camar Non adesso Sono i momenti decisivi Di questa partita Potrei venire eliminato Di nuovo Dalla Coppa di Polonia Poi vengo a farti le coccole Prima fammi vedere Se riesco a salvare Clamorosamente Questo game Oppure se devo buttare Al cesso L'ennesima stagione In realtà non è al cesso Posso ancora vincere Lo scudetto Però Mamma mia Ho bisogno di centrocampisti nuovi Sì così Vai a cagare Vilk Non c'entrano nulla I cucchiai Peccato Fuori Peccato Perché sei in mezzo ai cavi? Ma allora 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 Ti voglio tanto bene Eh gatto Ma perché ogni singola volta In cui devi interagire Con qualcuno Ti metti nei casini? Perché non sai stare tranquilla Per 14 secondi Della tua vita? Perché devi sempre Combinare un qualche disastro O potenzialmente Mettirti in una qualche condizione tale Da portare al disastro Niente È finita Skovgord È stato bravissimo A portare Djukanovic sul fondo Siamo fuori Dalla Coppa di Polonia Per il quarto anno su quattro Al primissimo turno È maledetto Questo trofeo Per noi Turbo maledetto Ma va bene così Se questo ci permetterà Di concentrarci Del tutto Al cento per cento Kamar per favore Sul campionato polacco Così sia Come abbiamo fatto bene No Va bene Peccato per la Coppa Peccato per la Conference Ma Accetto La situazione attuale In campionato Prima Più uno Sul Rakov Come è possibile Solo più uno Sul Rakov Se ero a più tre Prima Ah no Pareggiato Giusto Ok allora ci sta Che sia più uno Va bene Ce la giochiamo con Con il Rakov Per il Per il titolo Mancano 13 partite Le giocheremo tutte quante O domani O mercoledì Giovedì Vi ricordo che ci sarà Il subday Le 1v1 Contro i pepegotti premium Per i quali Tra parentesi Ripeto C'è Il form Da compilare O nel tab community Del canale O Nel server discord E niente Per il resto Non so Ripeto Se faremo domani O Mercoledì L'altro Di due giorni Faremo tutt'altro Forse Cillo Su qualche gioco Più semplice Vediamo Dai Spendori fate i bravi Buona 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 Finalmente Ho trovato La quadra del cerchio Che figo Buona